buongiorno a tutti vedo che siamo già numerosi puntuali questo è un lato positivo della pandemia dobbiamo spostarci da casa potete restare nelle vostre camere da letto nei vostri pigiami io mi sono vestito da professore allora sono massimo leone e sarò il vostro docente di filosofia della comunicazione per questo anno accademico 2020 2021 corso di laurea magistrale in comunicazione e culture dei media però studenti anche da altri corsi laurea magistrale spero che mi sentiate se magari cristina voto professoressa cristina voto che vedo in già collegata mi dà un feedback positivo così sono più tranquillo anche sul giorno massimo benissimo perfetto perfetto d'accordo ho scelto uno sfondo virtuale di palazzo nuovo e l'anfiteatro la magna credo numero due nella quale solitamente facevo l'azione ho fatto lezione soprattutto di semiotica generale ci sono alcuni vostri colleghi avrei mai pensato di avere nostalgia di palazzo nuovo delle alle di palazzo nuovo ma che tutto succede nella vita quindi ecco per dare un po il senso della della presenza proprio riesco anche fare lezioni in piedi davanti alla telecamera per recuperare un po di movimento di dinamicità che non stare sempre con la faccia davanti alla telecamera potete scrivere nella chat in qualsiasi momento tanto io non leggo e quindi potete scrivere quello che volete sono un non nativo digitale quindi posso fare una cosa alla volta per ovviamente potete intervenire nei momenti opportuni per partecipare a questo in questo seminario questo seminario avanzato di filosofia della comunicazione si dirige appunto agli studenti la studentesse del corso di laurea magistrale in comunicazione cultura dei media ad altri corsi laurea magistrale ma è anche un seminario che si dirige al nostro dottorato dottorato in lettere che ha un curriculum di semiotica quindi benvenuto studenti studentesse del corso di laurea magistrale comunicazione cultura dei media ma anche ai dottorandi e alle dottorande del curriculum in semiotica semiotica storia dei media del dottorato in lettere e però devo anche dire qualcosa perché in realtà questo seminario rientra in qualcosa di più ampio di più complesso di cui fa parte anche la professoressa e cristina voto che avete appena sentito vale a dire un complesso un po mastodontico progetto di ricerca europeo allora voi forse non lo sapete non saprete ancora ma in europa ci sono diverse istituzioni di ricerca una di queste istituzioni dedicate conseccate alla ricerca si chiama in inglese i orsi i propri and research council quindi consiglio europeo per la ricerca ed è l'istituzione più importante a livello europeo per la promozione della ricerca in campo umanistico in campo scientifico in campo generistico in tutti i campi allora questo iersi mette a disposizione di ricercatori tutta europa dei fondi che sono fondi competitivi perché per ottenerli bisogna presentare i progetti che sono indicati valutati migliori o diciamo più finanziabili rispetto ad altri progetti e nel lontano 2017 eravamo in un altro mondo nel 2017 io presentai per l'europena research council un progetto un progetto su un tema che mi affascina da sempre e che in realtà mi ha affascinato sempre più e che diciamo spero affascini anche voi perché in realtà è diventato il tema con quale io diciamo così mi rivolgo agli studenti e le studentesse non solo voi ma anche di altre università e oramai da diversi anni presentando diciamo le ricerche in corso questo insegnamento si chiama filosofia della comunicazione però avremo un andamento molto poco convenzionale diciamo non vi aspettate un insegnamento che cominci da non lo so i pressocratici cosa dicevamo sulla comunicazione aristotele cose bellissime per crità però diciamo che questo andamento cronologico anche teorico attraverso la filosofia attraverso la storia della filosofia attraverso quello che i grandi filosofi della storia hanno detto a proposito della comunicazione è qualcosa che riguarderebbe più un corso monografico diciamo quindi un corso diciamo standard classico accademico invece io con il mio gruppo di ricerca che conoscerete pian piano ho un po l'ambizione di farvi entrare nella ricerca farvi entrare nella ricerca che svolgo io che svolgo i miei collaboratori le mie collaboratrici e che presentiamo poi anche a livello europeo allora ritorniamo sul sul punto che avevo lasciato a metà strada qual è che questo tema che in realtà è diventato per me il tema della vita per il momento per magari tra cinque dieci anni ne avrò un altro però io sono nato come semiotico molti di voi credo che abbiano già studiato semiotica per laurea triennale in scienze della comunicazione e poi mi sono specializzato sono stato sempre un po requieto studiato un po dappertutto in francia svizzera in irlanda spagna negli stati uniti eccetera eccetera e ho cominciato a concentrarmi sulla semiotica però applicata soprattutto alle religioni e alle culture visive ho lavorato sulla regioni moltissimi anni tra l'altro anche con alcuni docenti che sono adesso a torino la professoressa geni ponso per esempio che ha un insegnamento di semiotica delle culture religiose e a un certo punto però ho sentito l'esigenza di è così potete forse mi allontano potete vedere anche che vestito anche nella parte di sotto cosa che non accade spesso tutti i docenti quindi mi sono sentito l'esigenza di specializzarmi su un argomento in particolare e però volevo che questo argomento non fosse un argomento astratto non fosse un soggetto insomma che derivasse da una pura scelta accademica mi sono un po come dire un cercato dentro mi sono esplorato dentro per capire che cos'è che mi interessasse veramente non come semiotico e allora a un certo punto anche per delle vicende personali sono qui a raccontarvi insomma che dolorose ho capito che uno degli oggetti anche se poi vedremo che non è un oggetto che più mi interessava tra tutti gli oggetti che possono essere studiati dalla semiotica sapete che la semiotica studia praticamente tutto tutto ciò che può essere studiato dal punto di vista della semiotica della significazione tutto ciò che può essere utilizzato per mentire no come diceva umberto è trattato di semiotica generale che forse avete letto nel 75 pagina 18 e ho cominciato a capire che questo questo oggetto era il volto il volto il face la faccia il sembiante il viso vedete quante parole abbiamo nella lingua italiana ma anche in altre lingue italiano del volto faccia riso sembiante in inglese avete face visage contention in spagnolo rostro semblante cara e tutte le lingue sono diverse parole molte lingue ci sono diverse parole per indicare quello che insomma il nostro nostro viso non la nostra faccia il nostro volto poi vedremo queste parole non sono tutte ma vi dà già un'idea del fatto che nella nelle nostre culture di cui le lingue sono uno specchio ma anche un articolazione il volto è fondamentale il volto è fondamentale ancora più fondamentale in questo momento in cui diciamo io vedo soltanto il mio di volto vedo quello di cristina che ha una bella icona e poi però se scorro diciamo questo immenso elenco di nomi e cognomi vedo appunto i vostri nomi e questi cognomi ma non vedo i volti no questo perché insomma oramai è in balzo di diciamo utilizzare questo tipo di connessione anche per non stressare la velocità della connessione l'ampiezza di banda allora il volto dicevo è centrale in tutte le culture probabilmente centrale come vedremo anche in tutte le nature cioè centrale ancora prima forse che arrivi il linguaggio con la sua capacità o diciamo e questo oggetto e 2017 grosso appunto alle al volto però il volto studiato da un punto di vista molto particolare che è quello delle della comunicazione nell'era digitale naturalmente il volto mi interessa sempre tutto tutte le sue manifestazioni mi interessano anche i volti no infatti mi dispiace non potervi vedere poi magari ci vedremo durante durante gli esami no questa situazione un po stressante o magari un giorno non lo so riusciremo a uscire fuori da questi da questi schermi però poi naturalmente il progetto doveva avere un suo indirizzo e allora scelto di consacrarmi sul digitale cioè su quello che accade al nostro volto nell'epoca digitale vedete cosa accade già io insomma mi vedo un po male questo in questa rappresentazione di me naturalmente ecco per studiare il volto nell'epoca digitale voi non potete cominciare dal dall'invenzione di internet o dall'invenzione di immagine digitale no perché la tecnologia cambia nel tempo si introducono nuove forme di rappresentazione nuovi dispositivi rappresentazione nuove tecnologie di rappresentazione però poi in realtà ci sono delle esigenze antropologiche legate al volto ci sono dei desideri ci sono delle paure ci sono delle emozioni che sono di lunghissimo periodo noi diciamo usiamo spesso il volto in modo simile al modo in cui lo utilizzavano i nostri antenati di tantissimi anni fa addirittura di epoche preistoriche però come vedremo anche oggi durante la presentazione c'è un po più formale abbiamo costantemente cambiato il modo di rappresentare il volto no abbiamo costantemente cambiato anche le tecnologie per rappresentare il volto per comunicare il volto al nostro pubblico agli altri dalle altre ecco quindi mi interessa questo passaggio cioè il passaggio dal non digitale al digitale cosa succede nel passaggio dalla fotografia diciamo così analogica alla fotografia digitale cosa succede con l'arrivo di internet e poi soprattutto le reti sociali no e quindi sono inventato questo progetto l'ho presentato al consiglio europeo per le ricerche è stato selezionato in una prima fase poi è stato selezionato per un intervista non si dice intervista si dice colloquio colloquio interview a bosel momento molto molto molta ansia no perché ci si ritrova con tutti questi altri ricercatori che anche loro sono stati selezionati e sono dimostrata di essere più bravi degli altri e quindi poi nel 2017 discussi questo progetto presentare questo progetto davanti al a un panel di esperti cattivissimi dell'europea research council e il progetto fu bocciato ecco questo per dirvi che insomma ci sono molti insuccessi nella vita non ha bisogno di mordere fu bocciato perché c'erano alcuni problemi perché io mi misi a discutere molto con uno dei diciamo degli esperti in questo panel in questo gruppo di valutatori la discussione sfociò in una specie di litigio e quindi alla fine bocciarono il mio progetto ecco mai litigare con chi vi sta valutando anche per altri esami di filosofia delle comunicazioni però poi ripresi questo progetto lo modificai capì insomma che effettivamente questo collega col quale avevo discusso forse aveva ragione lo ripresentai e questa volta andò bene anche perché mi presentai al colloquio con il mio cappello portafortuna adesso non ce l'ho perché è a torino adesso vi dico da dove vi sto parlando e quindi mi presentai in questo cappello blu e questo cappello blu mi portò fortuna quindi il consiglio europeo della ricerca grazie a questo cappello blu mi diede 2 milioni di euro per svolgere questa ricerca pensate quanto vale questo cappello blu comprato un mercatino di tubing tanti anni fa e allora niente è cominciata questa ricerca si sono diciamo aggregati alla ricerca aggregate dei ricercatori ricercatrici dall'italia ma anche da altri paesi e li vedrete durante le settimane è veramente sono tutti straordinari tutte straordinarie ognuno ognuna un proprio tema specifico all'interno della vasta area del volto della comunicazione della significazione del volto ma sono tutti diciamo dei grandi esperti che hanno prodotto già moltissimo su questi su questi temi questo per dirvi che carissimi studenti carissime studentesse durante questo seminario noi parleremo di volto allora se qualcuno magari ha saputo qualcosa del seminario dell'anno scorso il segnalo scorso è stato un po diciamo così rocambolesco no perché io mi trovavo in francia quando il corso è cominciato in un appartamentino in affitto dove internet non funzionava molto bene e quindi poi alla fine registrai tutte le lezioni e fumo delle lezioni asincrone no tra l'altro anche adesso stiamo registrando e quindi comunque cosa voi diciate eccetera viene viene registrato e quindi vi dicevo l'anno scorso è stato un po rocambolesco con delle lezioni asincrone però chi di voi magari fosse andato a vedere questi video noi abbiamo nel nostro progetto un canale youtube poi vi darò tutte le informazioni su questo canale in cui mettiamo tutti i video delle lezioni ma anche i video delle cose che facciamo le mie conferenze dei bellissimi seminari organizzati da cristina voto e il sasoro e tutti gli altri diciamo collaboratori professori professoresse che collaborano a questo questo progetto chi avesse già sbirciato e si sarà accorto che anche l'anno scorso in realtà il seminario trattava del volto a questo punto la domanda lo studente anzi il sospetto calunioso nello strumento sentese ma il professor leone dice sempre le stesse cose ma la realtà non è proprio così diciamo professione ha una ossessione che quella del volto però questo progetto si divide in ciò che tecnicamente nel linguaggio europeo sia work packages cioè sono dei pacchetti di lavoro non sono come adesso lavoriamo su questo aspetto poi lavoriamo su un altro aspetto eccetera eccetera allora il primo anno e mezzo di questo progetto europeo che dura cinque anni è già già passato noi ci siamo concentrati su un tema in particolare di cui appunto trovate traccia in tante pubblicazioni nei video diciamo ci siamo proprio fissati su questo tema per un anno e mezzo che sono i volti artificiali cioè abbiamo studiato il modo in cui attraverso le culture umane delle loro storie si sono prodotti dei volti allora come si producono dei volti artificiali già diciamo dipingendo un ritratto di una di un individuo che non esiste biologicamente inesistente si produce in qualche modo un volto artificiale però poi noi abbiamo preso in considerazione diverse tecnologie fino ad arrivare al modo in cui l'intelligenza artificiale contemporanea e soprattutto il deep learning e soprattutto delle reti neurali che si chiamano antagoniste antagonist neural networks generative adversarial networks quindi reti generative avversariali poi magari ne parleremo producono dei volti delle immagini digitali di volte che non corrispondono a nessun volto biologico no per cui voi probabilmente li avete visti questi ruoti perché circolano anche con meme eccetera su internet adesso potete andare a trovare questi volti che sono generati di intelligenza artificiale ma che non corrispondono a massimo leone non corrispondono a non lo so annacchiara paolo arianna meloni eccetera eccetera vedo su tanti nomi scritti sono delle pure invenzioni nate dalla diciamo così dall'algoritmo dell'intelligenza artificiale ma che non corrispondono a nessun volto biologico quindi questo noi ci siamo occupati durante un anno e mezzo abbiamo prodotto molto abbiamo diciamo così esplorato a fondo questo questo tema a questo sotto avatars che è un acronimo insomma adesso stiamo complicati troppo le cose alla fine di questo primo periodo ci siamo detti che bisognava dare un taglio più culturologico più antropologico alle nostre ricerche cioè è vero che oramai ci sono delle tecnologie del volto per la rappresentazione del volto per la costruzione di retti artificiali di volti artificiali eccetera eccetera e ovunque si possono produrre questi volti artificiali così come le tecnologie che noi utilizziamo per esempio per incontrarci in questo periodo molto surreale no che stiamo vivendo della pandemia ce ne sono diverse di queste tecnologie noi utilizziamo webex altri utilizzano zoom it eccetera eccetera però fondamentalmente il principio è lo stesso con alcune alcune piccole con alcuni piccoli cambiamenti quindi c'è una tecnologia globale del volto che è una tecnologia digitale ma anche non digitale no pensate non so ai cosmetici cosmetici sono prodotti da la maggior parte dei cosmetici sono prodotti da grandi aziende globali che vendono in tutto il mondo e spesso vendono gli stessi prodotti no in tutto il mondo ecco però questo esempio delle aziende cosmetiche tra ci serve proprio oggi per farvi capire diciamo per spiegarvi per permettermi di trasmettere a questo insigne pubblico qual è il punto sul quale intendiamo diciamo insistere durante questo seminario cioè è vero dicevo queste tecnologie del volto sono globali però le culture del volto hanno delle differenze fra di loro cioè chiaro tutti gli esseri umani hanno un volto possiamo riconoscere un volto in tutti gli esseri umani diciamo in un essere umano che non sia colpito da patologie eccetera eccetera c'è un volto lo riconosciamo lo vediamo appena vediamo un individuo non importa di quale gruppo etnico di quale cultura esso essa sia riconosciamo che ha un volto e riconosciamo che su quello forse ci dobbiamo concentrare più che su ogni altra cosa no anche voi adesso non è che mi guardiate sempre la cravatta non mi guardate il volto perché attraverso quello che io mi esprimo eccetera però le rappresentazioni del volto così come anche le auto rappresentazioni no attraverso per esempio la cosmetica ma anche il taglio dei capelli gioielli il piercing i tatuaggi eccetera eccetera sottostanno a delle variazioni sono contraddistinte da variazioni che sono locali sono locali nel tempo e nello spazio quindi diciamo che se nel primo periodo di questo progetto di ricerca noi ci siamo interessati della globalità volto adesso sempre più ci concentriamo sulla sua località ed è per questo che cominciamo a discutere di un tema che poi dà il titolo al nostro seminario vediamo se riesco a fare qualcosa per mostrarvi anche non se non sempre solamente la mia faccia allora fatemi capire un pochino ecco qua allora vi dico subito che 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 voilà adesso penso di stare condividendo non so se cristino elsa mi date un feedback per dirmi che va tutto bene che non sto condividendo la mia faccia o non so la foto del mio bagno allora questo è il titolo del nostro seminario cronotopi del volto cronotopes of the face in inglese è più bello che cronotopi sembra non so che cronotopi e cronogatti del volto ma invece no naturalmente ci riferiamo a cronos e topos che sono il tempo e lo spazio il tempo e il luogo in greco perché vogliamo concentrarci proprio su come le culture del volto e le tecnologie della sua rappresentazione cambiano nel tempo e nello spazio cioè sono modificate dalle culture locali dalle esigenze culturali socioculturali locali dalle esigenze anche etniche locali e questo per una serie di motivi un po perché è così che avviene cioè queste tecnologie vengono usate in modo diverso come vedremo se siamo in cina no forse non vi ho detto ma ve lo dico subito poi lo capirete sempre di più che ogni tanto io sposto dalla mia il mio insegnamento torinese mi piace anche molto viaggiare diciamo che è la forse la mia più grande passione quindi viaggio in continuazione anche adesso anche con la pandemia viaggio nonostante tutto però ecco un paese nel quale io sviluppato molte attività ultimamente la cina ho cominciato a insegnare dal 2000 non mi ricordo più 10 anni fa 15 anni fa e nell'università cinesi e poi adesso soprattutto l'università di shanghai che è la mia università cinese diciamo dove sono professore a tempo parziale e lì mi rendo conto che c'è un mondo tecnologico molto diverso non so se ci sono degli studenti delle studentesse cinesi di origine cinese tra di noi ma conoscete tutti i we chat adesso vedrete che ci sono delle tecnologie dei dispositivi delle app dei software che sono utilizzati soprattutto in cina e anche delle app che riguardano il volto che vengono utilizzate soprattutto in cina o nei paesi asiatici che hanno delle caratteristiche diverse rispetto alle tecnologie del volto che sono utilizzate invece nei paesi occidentali allora scorriamo insieme questo seminario poi in realtà ci sarà una presentazione fatta molto molto meglio dalle due professoresse cioè il sasoro e cristina voto che sono entrambe postdoc di facets postdoc per chi non lo sapesse è un termine che indica il fatto che queste professoresse hanno già un dottorato adesso stanno facendo un post dottorato che la diciamo il livello più alto nella formazione per la ricerca che si possa ottenere ma sono anche delle professoresse che insegnano qui probabilmente alcuni di voi avranno seguito i loro corsi e che insegnano anche in altre università no professoressa al sasoro insegna l'università ostelea di barcellona dove si occupa soprattutto di turismo semiotica del turismo e la processa cristina voto insegna diverse università in america latina ma soprattutto in argentina dove si occupa di arti digitali tantissime cose in realtà quindi le ringrazio molto subito all'inizio del seminario perché hanno mi hanno realizzato in realtà dato quest'idea hanno costruito loro questo seminario poi io ho diciamo inserito degli elementi che a me faceva piacere inserire vedete questa bellissima immagine magari un giorno dedicheremo anche qualche parola questo straordinario artista che riesce a evocare un'immagine del volto con pochi tratti pittorici che insieme costruiscono e costruiscono il volto non anche quello che vogliamo fare anche noi per questo abbiamo scelto questa immagine vogliamo decostruire il volto e ricostruirlo vogliamo capire come le diverse culture diciamo si approcciano a questo questo tema quindi oggi cominciamo con questo questo intervento intitolato semiotiche del volto algoritmi della bellezza però poi avremo diversi incontri che dureranno sostanzialmente fino al 7 di maggio per concludere le dunque fatemi pensare 48 ore di lezione che noi avremo insieme perché questo corso è un corso di 72 ore però e queste 72 ore sono divise tra me che ne svolgo 48 e un visiting professor che invece ne svolgerà 24 quindi per un totale di 72 ore il visiting professor lo conoscerete da maggio in poi è uno dei più grandi studiosi di linguistica e di semiotica che ci sia nel momento si chiama jean marie clankenberg è un grande diciamo docente ricercatore del belgio che ha scritto moltissimo sulla semiotica visiva sulla semiotica cognitiva eccetera eccetera poi vi dirò anche quali sono le modalità dell'esame ma insomma questo adesso magari non ce lo risparmiamo ecco oggi ci conosciamo e ci evitiamo argomenti troppo ansiosi e ansiogeni allora questo è un po il il tema che affronteremo cioè nella variabilità culturale socio culturale anche etnica delle tecnologie del volto e lo faremo attraverso una serie di presentazioni di conferenze alcune di queste conferenze sono di relatori diciamo creatrici esterni altre invece saranno presentate da ricercatori ricercatrice di facets cioè di questo progetto hanno detto ancora come si chiama progetto che il progetto si chiama facets facets in inglese significa sfaccettature però in realtà come spesso piace a questi organi di ricerca dell'europea è anche un acronimo che sta per face esterics in contemporary in technological societies quindi estetiche del volto nelle società telematiche contemporanee perché proprio questo ciò di cui parliamo estetiche del volto nel senso che riguardano non soltanto la bellezza del volto ma anche il modo in cui il volto viene percepito viene recepito il modo in cui viene presentato il modo in cui viene utilizzato nella comunicazione contemporanea il modo in cui si trasforma nella comunicazione digitale il modo in cui la comunicazione digitale trasforma il volto perché tutti i nostri volti sono trasformati anche dalla comunicazione digitale no sapete questi giorni si parla molto per esempio del fatto che ormai ci vediamo quasi tutti quasi sempre attraverso queste piattaforme digitali se ci incontriamo fuori non ci riconosciamo o comunque abbiamo dei problemi perché abbiamo una mascherina e di conseguenza soprattutto in alcune paesi in alcuni paesi in alcune società che già avevano una predisposizione in tal senso si sviluppa sempre più una esigenza di chirurgia plastica del volto in funzione zoom cioè io infatti lo farò anch'io vedete che ho delle borse tremende perché alle otto sinceramente va comunque abbiamo ereditato nel mondo virtuale questi orari nel mondo reale comunque si procede con questa chirurgia plastica del volto perché il volto deve in qualche modo essere pronto per zoom oramai si vede di me praticamente soltanto il volto quando si vede questo è quello che mi rappresenta nella piattaforma digitale nel mondo reale adesso per il momento il mio volto lo vede il mio cano il mio gatto eccetera però se esco fuori di casa non vede più nessuno perché ho la mascherina poi ne parleremo ne parleranno e allora in alcuni paesi brasile per esempio no che aveva già una grande tradizione di chirurgia plastica estetica ci si rifà il volto si ci si costruisce il volto allora io ho detto nel primo periodo ho parlato di volti artificiali e la chirurgia plastica è un ambito oramai globale le tecniche della chirurgia plastica sono globali ci sono delle app se volete poi le vedremo insieme alcune sono state tra l'altro inventate anche da specialisti italiani che aiutano la chirurgia plastica a livello trans nazionale trans culturale no sono delle app che sono disponibili in inglese in altre lingue e che aiutano appunto i chirurghi plastici a progettare il volto però quello che diciamo ci interessa è il fatto che quando io decido di rifarmi il volto in funzione anche della rappresentazione digitale in realtà poi mi presento con delle esigenze che non sono soltanto globali alcune sono globali no pensate per esempio a quanto sia importante oggi il concetto di instagram ma bile che cos'è un volto instagram ma bile è un volto instagram ma bile è un volto che ha delle caratteristiche tali da consentirli una vasta circolazione ed un vasto apprezzamento da parte di un pubblico potenzialmente globale con una diffusione potenzialmente virale in un social network in particolare che instagram no io ho una faccia instagram ma bile no sono troppo vecchio devo andare su facebook ecco però chi vuole andare su instagram invece deve soprattutto se vuole utilizzarlo per scopi professionali cominciare ad assomigliare ad un prototipo ideale di volto che può avere successo su instagram non mi posso presentare con un volto qualsiasi no soprattutto se devo fare di me un brand vivente e questo è un po il concetto no il volto diventa un brand identità personale diventa una specie di logo e risponde ed obbedisce a delle esigenze globali al tempo stesso però ci sono anche delle caratteristiche locali ci sono delle caratteristiche locali che spesso riproducono anche dei rapporti di potere molto molto antichi avete senza dubbio sentito parlare di post colonia al status cioè dello studio delle culture che prima erano soggette a colonizzazione da parte di altre culture poi sono liberate ma che comunque anche se sono liberate dal punto di vista politico economico e sociale continuano ad esserne influenzate dal punto di vista culturale non pensate all'influenza della francia in africa pensate l'influenza della spagna america latina eccetera eccetera allora lì si vede che in realtà nonostante la tecnologia sia nuovissima le reti neurali l'intelligenza artificiale deep learning le app per la chirurgia plastica c'è ancora ci sono ancora dei rapporti di potere fra culture nel mondo che spesso influenzano anche il modo in cui le diverse culture si appropriano della tecnologia la usano la usano però contemporaneamente ne sono anche usate e questo è un po uno dei punti sui quali forse insisteremo di più però insomma siete già grandicelli nel senso che siete studenti di comunicazione e cultura di media non vi posso vedere però di solito insomma i partecipanti al mio mio seminario hanno già una buona formazione in scienza della comunicazione comunque hanno già studiato molto sono nella fase avanzata no degli studi e quindi per noi oggi per chi partecipa a questo seminario è molto importante interrogarci è molto importante che ci interroghiamo su ciò che ci sembra ovvio che è un po quello che fa la filosofia sempre quello che fa la semiotica che è una parte della filosofia cioè noi utilizziamo tutte queste app non lo so io ieri non vi ho detto che non sono a torino ovviamente no questa condizione virtuale mi permette di parlarvi da diversi luoghi adesso mi trovo in un posto che si chiama un gas e ma in alsazia anche una regione della francia confini con la germania non so come sono arrivato qui comunque poi magari se volete ve lo racconto per la settimana prossima ci vedremo da parigi ecco però io avrò sempre questo sfondo alle spalle no qui c'è una discrepanza tra luogo reale e rappresentazione però ecco quello che vi stavo dicendo è che ecco perso il filo comunque procediamo con questa con questo studio delle culture locali del volto e per capire come per esempio ecco vi stavo dicendo io sono in questo bel posto ogni tanto vado a fare le passeggiate premo delle foto mi faccio dei selfie non qualsiasi stupidotto però questi selfie non li metto in circolazione subito nessuno di noi lo farebbe nessuno di noi accetterebbe credo di avere nel proprio cellulare un meccanismo che appena uno si scatta un selfie questo selfie va su tutti i nostri social networks così il primo il primo che abbiamo preso nonostante magari non so abbiamo gli occhi chiusi abbiamo un piccione che ci ha colpito in quel momento qualsiasi cosa ecco la luce contro siamo orribili invece noi non facciamo questo noi continuamente facciamo una post produzione delle immagini del nostro volto innanzitutto scattiamo diversi selfie no scattiamo quelli un po più normali ne scattano 3 4 quelli maniaci ne scattano 50 no per selezionarne uno li vediamo tutti e selezioniamo quello già comincia il problema estetico dov'è che comincia il problema estetico però estetico comincia già quando noi decidiamo di farci un selfie no perché dovremmo farci un selfie piuttosto che invece fare una foto quello è già una scelta dove c'è una scelta c'è senso c'è diciamo senso estetico poi scegliamo di avere alle spalle qualcosa piuttosto che qualcos'altro noi ho scelto di avere i vostri studenti degli anni passati e poi una certa distanza del braccio della mano del nostro volto una certa inclinazione del cellulare queste sono tutte scelte che noi facciamo no che poi magari come dire a lungo andare si cristallizzano in una specie di stile e ognuno di noi prende sono scatta questi con uno stile che comunque un po personale no però poi ne scattiamo diverse di questi selfie le andiamo a riguardare e ne selezioniamo selezioniamo alcuni no quelli che ci piacciono di più e però quali sono quelli che ci piacciono di più e perché ci piacciono di più e ci piacciono di più perché ci sembra che in quelli che ci piacciono di più siamo più belli no siamo più affascinanti siamo più seducenti anche quello è un problema estetico di la tradizione filosofica lunghissima cioè il problema della bellezza il problema della valorizzazione estetica perché ci troviamo belli in certe foto certe altre no perché ci troviamo seducenti in alcuni selfie e in altri invece invece no però non finisce qui ovviamente perché questa è soltanto la fase preliminare no della produzione dei nostri simulacri noi facciamo molto di più cominciamo a post produrre queste immagini no allora in molti casi questa post produzione in realtà è oramai integrata nella tecnologia cioè i nostri vari ci conoscono sanno com'è che noi ci piacciamo sanno diciamo con quale luce con quale filtro è un concetto che noi diciamo una parola che noi utilizziamo spessissimo no il filtro ma sulla quale non riflettiamo abbastanza se volete questo seminario sui cronotopi del volto sarà una lunghissima riflessione sui filtri cioè su come noi filtriamo il nostro volto lo filtriamo attraverso la tecnologia lo filtriamo attraverso la cultura lo filtriamo anche naturalmente in base a delle inclinazioni personali ma c'è sempre un filtro noi non siamo mai immediati abbiamo un'impressione di immediatezza perché questa c'è data della nuova tecnologia c'è data anche dal mercato della nuova tecnologia c'è venduta però noi continuamente stiamo mediando rimediando l'immagine al nostro volto lo facciamo attraverso questi questi filtri e allora dicevo tutta questa questo processo per noi diventato un fatto quotidiano adesso ci facciamo un po meno selfie perché mi si è rotta la caffettiera guardate una tragedia ha dovuto utilizzare una caffettiera francese spero che non ci siano i francesi io odio il caffè francese proprio lo odio allora dicevo noi utilizziamo tutti questi filtri in maniera praticamente riflessa no automatica tutto questo processo vedo qualcosa che mi piace decido di scattarmi un selfie mi metto in una certa posizione una certa angolatura scatto un certo numero di selfie ne seleziono uno lo post produco con dei filtri oppure li inserisco come settaggi nel mio cellulare oppure il cellulare lo fa da solo senza di me tutto questo non è automatico non ci pensiamo più no ovviamente nessuno ci pensa perché nella vita quotidiana quello che ci interessa è mandare un selfie alla fidanzata o fidanzato però il semiottico in realtà lavora su questo cioè lavora sui vostri sui nostri sugli umani automatismi per sottolineare il fatto che questi automati automatismi sembrano naturali ma non lo sono e soprattutto sembrano senza radici cause culturali ed effetti culturali ma in realtà le cose stanno in maniera molto diversa ogni volta che noi ci scattiamo un selfie ogni volta che lo mettiamo in circolazione e volta che lo post produciamo stiamo soggiacendo a certi linguaggi e certe logiche culturali sulle quali noi pensiamo di avere molto controllo ma in realtà questo controllo è molto limitato dalla tecnologia è molto limitato per esempio dalle opzioni esistenti della tecnologia esistente dai filtri esistenti no vi siete mai chiesti per esempio ma chi li ha costruiti questi filtri e come li ha costruiti perché certi filtri sono presenti nel mio cellulare e altri no perché ho certe possibilità di post produzione e altre no perché ne si spinge a credere che una certa qualità della luce in una foto aggiunga bellezza la foto piuttosto che invece la sottragga questi sono tutti i problemi estetici ma anche semiotici sono dei problemi che riguardano la valutazione della bellezza di un'immagine in particolare della bellezza l'immagine nostro volto ma in relazione a ciò che culturalmente ci spinge a una certa predilezione allora non so come ci vogliamo organizzare qui dal punto di vista del pause perché naturalmente nel mondo virtuale ognuno si prende le sue pause molti di voi probabilmente non esistono sono già non lo so stanno facendo la spesa oppure stanno facendo colazione qualsiasi cosa non stanno sicuramente come dire approfittando di questo spazio fantasmatico che ci concede quindi perché fare pause in fondo dobbiamo fare una pausa perché dobbiamo essere tutti sincronizzati sulla stessa pausa quindi anche se adesso state facendo tutti colazione eccetera eccetera o magari ascoltate queste mie parole mentre vi lavate i denti cosa che sarebbe impossibile non è un mondo premandemico bellissimo questo effetto e ci dobbiamo in qualche modo sincronizzare ecco dovremmo esserci di nuovo se mi date un semplice feedback iniziale per farmi capire che ci siamo perfetto grazie allora ricevuto nel frattempo una email dalla dottoressa valeria garozzo credo che sia una dottoranda giusto non so se in linea e mi chiede salve che mi chiede appunto se questa è la introduzione la prima lezione di un insegnamento oppure l'appuntamento previsto all'interno del seminario trasversale beauty was everywhere entrambe le cose quindi c'è stata una prima ora dalle 8 alle 9 che è una introduzione generale al seminario di filosofia della comunicazione che tutti i dottorandi tutti i dottorandi anche quelli non di semiotica sono interessati interessate ne possono seguire mentre dalla seconda ora in poi ci adentriamo nel tema che comunque abbiamo già un po introdotto e quello della bellezza e in particolare delle diciamo così estetiche digitali del volto della bellezza della cosmetica digitale allora questo punto a condividere che condividerei con voi un power point che so che loro lo aspettavate ansiosamente non salersi no queste spotify e quindi no non sta c'entra niente c'entra niente guardate che altrimenti non faccio tutti i miei gusti musicali ecco voilà vediamo un po se riesco a condividere questo vediamo un po se riesco a condividere questa presentazione allora dov'ero ecco qui dunque condividiamo power point ecco dovrebbe essere condiviso il power point confermo perfetto grazie vediamo se riusciamo anche a muoverci sì ok allora semiotiche del volto e algoritmi della bellezza non so se volete che continuiamo in italiano o in inglese ma magari continuiamo in italiano visto che abbiamo cominciato con questa lingua poi ci saranno alcuni interventi in inglese la presentazione ha delle idascarie in inglese ma poi ve le spiego questa è una immagine che ci arriva dalla regione di maros in un dipartimento del sulla uesi meridionale indonesia che si chiama bantimurung ed è un'immagine fatta da mano d'uomo che risale a trentacinque mila quattrocento anni fa si tratta di una immagine che rappresenta un animale che in inglese viene designato col nome di babirusa no dear pig sarebbe uno cervo maiale cosa del genere e si tratta di un'immagine rupestre adesso questa immagine interessante perché è una delle più antiche immagini al mondo nella storia preistoria a meno che noi conosciamo che rappresenti nella testa di un animale ora anche nell'arte preistorica nell'arte rupestre è evidente che gli esseri umani abbiano avuto un un desiderio di rappresentare il volto cioè il fatto di rendere il proprio volto o il volto degli altri presente presentificarlo no questa la significazione presentificare qualcosa che è assente quindi presentificarlo in uno spazio lontano oppure in un tempo lontano attraverso dei simulacri visivi pare che sia una pratica molto molto antica della nostra specie probabilmente connaturata con la nostra specie allora un grande studioso filosofo studioso della rappresentazione umana dell'antropologia umana della rappresentazione filosofo anche molto controverso che ha dedicato alcune delle sue inquizioni alcune delle sue riflessioni all'arte preistorica quale dire george bataille in uno scritto che troverete nella bibliografia dell'articolo che metterò tra i materiali di questo insegnamento e poi anche tra quelli del dottorato a seguito di questa lezione in questo studio del 1955 ma che ha comunque segnato un po la storia dell'interpretazione delle pitture rupestre riteneva che le rappresentazioni del volto fossero assenti nella pittura preistorica e in effetti se vi è capitato di visitare i siti preistorici più famosi in europa non so lasco no lasco si può visitare attraverso una straordinaria replica tridimensionale esattamente uguale all'originale in cui vedete tante rappresentazioni come questa che vi ho fatto vedere soprattutto dei bisonti o altri animali altri quadrupedi altri mammiferi però non c'è nessuna rappresentazione del volto umano no per cui ci si è sempre domandati ma forse l'uomo preistorico non aveva coscienza del proprio volto forse non lo voleva rappresentare perché si trattava di un tabù culturale ebbene un numero sempre crescente di scoperte archeologiche sembrano indicare esattamente la conclusione opposta diciamo che se questa che avete appena visto nella slide e la rappresentazione più antica di una testa contenente in qualche modo un volto anche se si vede molto male nell'immagine in un'altra immagine che trovate invece nella grotta di angoule ma in francia risalente a 25 mila anni prima nella nascita di cristo avanti cristo ebbene in questa immagine gli archeologi pensano si possa riconoscere una delle prime immagini di volto nella pittura rupestre nel contesto preistorico europeo ci sono altre ricerche che vanno in questo senso per esempio questi sono dei disegni degli schizzi che sono stati realizzati da un ricercatore tedesco indipendente che si chiama michael rappengluc che diciamo fa parte dello staff della università di monaco faceva parte il quale sostiene diversi iscritti di poter riconoscere queste immagini di volti nella grotta di la marche negli sac le chateau sempre in francia la francia come sapete ricca di siti preistorici immagini che potrebbero adattare a un essere datate a circa 15 mila anni fa altre immagini di questo tipo ci arrivano da altre parti del mondo per esempio questa è un'immagine che viene riconosciuta come un'immagine di volto da parte della maggior parte delle degli archeologi e la ritrovate nel sistema di grotte visibili esplorabili nella mona island che fa parte di puerto rico adesso un'isola disabitata ma dove in un'epoca molto più recente quindi tra 3000 e 2000 anni prima di cristo vi sarebbero stati degli insediamenti umani e in quell'epoca forse avrebbero diciamo anche lasciato queste immagini rupestri allora queste immagini sono molto interessanti ci provocano e provano negli archeologi soprattutto la riflessione sulla diciamo tendenza umana relativa alla rappresentazione del del volto e tuttavia potrebbero anche essere dei casi di pareidolia archeologica sento un microfono aperto quindi se lo spegnete se lo disattivate forse è meglio chiunque chiunque esso sia questo se volete vado a guardare ecco adesso per grazie grazie mille cos'è la pareidolia o pareidolia no quelli che hanno partecipato al seminario l'anno scorso quelli o gli collaboratori la collaboratrice di fans se lo sanno bene si tratta di un fenomeno cognitivo ma anche di un fenomeno culturale in base al quale noi esseri umani abbiamo una tendenza a riconoscere dei volti in configurazioni visive astratte le quali rappresentano appunto dei volti ma senza che ve ne sia nessuna intenzionalità no quando riconosciamo dei volti nelle nuvole per esempio nella forma delle nuvole o quando riconosciamo dei volti nella forma della corteccia di un tronco oppure in certe configurazioni di oggetti oppure non so un'automobile la sua parte anteriore ci sembra rappresentare un volto ecco sono tutti i casi di pareidolia o di pareidolia che abbiamo molto studiato perché rientrano un po nella categoria dei volti artificiali non solo un'altra nostra ricercatrice la professoressa simona strano ci ha mostrato come molto spesso riconosciamo dei volti nel cibo no c'è il famoso caso del volto di gesù che compare su un pezzo di toast su una fetta di toast bruciacchiato poi venduto su ebay per un sacco di soldi sono tutti questi fenomeni che conosciuti bene e allora rispetto a queste immagini ci si può chiedere appunto se si tratti di reperti archeologici effettivamente delle rappresentazioni preistoriche di volti oppure se non si tratti dell'espressione di un desiderio molto profondo degli archeologi stessi quello di voler riconoscere dei volti nelle pitture rupestri e soprattutto di voler competere diciamo rispetto alla scoperta dei volti diciamo più antichi che possano esistere che possano essere ritrovati nell'ambito della delle rappresentazioni preistoriche in ogni caso sia che si tratti di fenomeni archeologici sia che si tratti di fenomeni pareidolici in questi tempi che ormai sono molto remoti le immagini di volti umani risultavano in qualche modo privi prive di realismo perché erano collegate ad una certa tecnica della rappresentazione a certi mezzi della rappresentazione cioè può darsi è molto probabile che nella specie umana ci sia sempre stato un desiderio di rappresentazione del volto umano proprio per la centralità che il volto ha nell'interazione con altri esseri viventi ma che lo sviluppo tecnologico delle modalità dei dispositivi di rappresentazione abbia modulato questa esigenza abbia modulato questa esigenza antropologica per cui da sempre probabilmente gli esseri umani vogliono rappresentare il proprio volto e soprattutto forse vogliono rappresentare il volto degli altri e tuttavia in queste immagini che vi ho mostrato tali rappresentazioni risultano molto poco realistiche allora risultano molto poco realistiche per noi perché siamo stati abituati a un altro tipo a un'altra gamma di tecnologie della rappresentazione del volto rimane un mistero insondabile il fatto se queste immagini possano avere invece avuto uno straordinario realismo rispetto ai loro osservatori rispetto ai loro spettatori modello cioè le persone che si trovavano a vivere in questi luoghi si trovavano a passare in questi luoghi a noi questa questo volto disegnato nella grotta di mona il non sembra un po il volto di un alieno e molti potrebbero forse costruire anche delle teorie strampalate no sulla presenza di queste immagini però sarebbero un anacronismo in realtà queste immagini corrispondono al modo in cui all'epoca forse si concepivano i volti li si potevano rappresentare con i mezzi a disposizione con le tecnologie di rappresentazione a disposizione quello di cui noi non ci accorgiamo e che è invece qualcosa su cui la semiotica insiste molto è il fatto che anche le rappresentazioni contemporanee dei volti quelle digitali quelle che ci sembrano estremamente realistiche anche l'immagine la rappresentazione del volto che passa attraverso questa piattaforma e arriva sui vostri schermi in realtà probabilmente si ha un suo realismo intrinseco ma che un realismo comunque condizionato dalla nostra cultura tecnologica noi ci siamo abituati all'immagine digitale l'immagine digitale ha un alto grado di realismo eppure questo realismo non è puramente la semiotica direbbe indexicale no non è semplicemente la capacità di rappresentare la realtà così come è c'è anche una convenzione dietro questa rappresentazione questa convenzione la si vede subito quando non lo so voi andate a guardare una partita di calcio su uno schermo digitale dieci anni fa vi sembra che i corpi i volti i movimenti dei calciatori non siano realistici non sono non siano rappresentati realisticamente eppure dieci anni fa gli stessi schermi vi avrebbero trasmesso uno straordinario effetto di realismo no quindi c'è anche nell'ambito digitale anche nella evoluzione della tecnologia digitale c'è un certo grado di assuefazione alle convenzioni di rappresentazione per cui adesso siamo abituati al 4k siamo abitati all 8k siamo abituati alla tridimensionalità gli scherbi curvi eccetera eccetera gli ologrammi questo però non deve suggerire a mio avviso che non vi sia un'evoluzione tecnologica cioè non deve suggerire il fatto che il grado di realismo che questa immagine rupestre aveva per i suoi contemporanei fosse lo stesso rispetto al grado di realismo che un'immagine digitale contemporanea per esempio prodotta da intelligenza artificiale può avere per noi spettatori ed osservatori del ventunesimo secolo c'è secondo me ma questa è una materia diciamo di discussione della filosofia della cultura se volete un effetto di accumulo delle invenzioni tecnologiche umane nel corso della storia umana per cui si può dire che effettivamente ci sia una evoluzione tecnologica che per certi versi assomiglia ma non è la stessa cosa assomiglia l'evoluzione biologica cioè abbiamo avuto una tendenza in quanto esseri umani a produrre delle tecnologie di rappresentazione del volto che fossero sempre più consone ai meccanismi cognitivi innati della nostra percezione visiva nel senso che man mano che la tecnologia della rappresentazione dello schermo la rappresentazione digitale così via si sono evolute si sono evolute nel senso di andare sempre più incontro alle esigenze neurofisiologiche della nostra percezione al modo per esempio in cui il nostro cervello elabora il senso della tridimensionalità elabora il senso del colore quindi c'è questa evoluzione è un'evoluzione che però comunque è sottesa sempre da un certo livello di convenzionalità allora vi dico tutto questo perché in realtà proprio questa continua evoluzione delle tecnologie della rappresentazione del volto e diciamo questo continuo progresso questo continuo miglioramento nel senso di che cos'è il miglioramento dal punto di vista tecnologico perché una tecnologia dovrebbe essere migliore rispetto a un'altra perché una tecnologia dovrebbe essere migliore rispetto un'altra in questo ambito che è quello della rappresentazione del volto e beh in questo caso il progresso consiste appunto come dicevo in un adattamento progressivo alla nostra neurofisiologia della cognizione ebbene è proprio lungo questo processo noi arriviamo ad un punto che quello odierno nel quale essenzialmente non ci accorgiamo più di certi nostri automatismi cioè non ci accorgiamo più del fatto che effettivamente c'è una parte di noi che aderisce a queste immagini digitali perché sono proposte alla nostra diciamo condizione la neurofisiologia della nostra condizione in modo tale da entrare in perfetta risonanza con essa ma d'altro canto proprio questo automatismo spesso nasconde delle scelte culturali no vedremo alcune di queste scelte culturali allora qual è il compito dei filosofi dei filosofi della comunicazione e dei semiotici perché noi siamo soprattutto dei semiotici delle semiotiche diciamo che da un lato il contributo che la semiotica visiva in particolar modo potrebbe dare a questo diciamo processo tecnologico e quello di smascherare i pregiudizi della rappresentazione visiva noi passato molti semiotici sono dedicati a smascherare i pregiudizi della rappresentazione televisiva ma poi successivamente dei filosofi della scienza della tecnologia come la tour si sono concentrati sul modo in cui anche nel laboratorio anche nella costruzione della novità tecnologica si insinuano delle dinamiche culturali si insinuano delle forze socio culturali e oggi invece io vi propongo un viaggio diverso che riguarda il il tema specifico del nostro seminario e che io designerei con il tema di geolocalizzazione che cos'è la geolocalizzazione allora la geolocalizzazione è una pratica tecnosociale che corrisponde ad alcuni dispositivi che corrisponde che dal luogo ad alcune app applications tra l'altro la professoressa elsa soro che ha organizzato questo seminario è una esperta diciamo di ricadute culturali socio culturali della geolocalizzazione però per geolocalizzazione noi possiamo intendere anche quel processo che conduce a dei cronotopi del volto cioè alla creazione di varietà socio culturali locali nell'utilizzo della tecnologia dell'olto e qui ne avete un esempio non so se conoscete mei tu mette in cinese che uno una delle apps per il processamento di immagini scattate da telefoni cellulari con più successo in cina e poi di conseguenza anche nel mondo non dati i numeri del business cinese e questa app che potete scaricare anche in europa perché ce n'è una versione anche per il mercato occidentale è una app che si è sviluppata che è stata sviluppata che si è diffusa raggiungendo un numero immenso di utilizzatori soprattutto in relazione a un tipo di immagine che sono proprio le immagini che proprio il tipo di immagini che ci interessa vale a dire le immagini facciali allora l'ultima volta che ho diciamo appurato quali fossero le statistiche dell'uso di mei tu e ormai sono trascorsi un paio d'anni cioè era il dicembre del 2019 mei tu aveva un monopolio schiacciante in cina e in altri paesi asiatici per quanto riguarda il processamento la post produzione di immagini facciali digitali allora secondo una stima di cnn money che il servizio economico della cnn nel 2000 nel 2016 nel dicembre 2016 scusate in dicembre 2016 mei tu aveva già 456 456 milioni di utenti i quali ogni mese postavano nelle reti sociali una media di 6 bilioni di foto queste questi dati poi sono cresciuti nel esponenziale sono già impressionanti per il 2016 ma sono continuato a crescere e nel giugno 2019 le diverse apps di mei tu perché mei tu nasce come una app singola poi si diversifica diciamo offrendo servizi diversi e identificando anche delle nicchie diversi utilizzatori nel giugno 2019 mei tu era stato attivato come app da un bilione 600 milioni di dispositivi unici nel mondo cioè un miliardo e mezzo di persone nel mondo avevano attivato questa questa app con una stima di 308 milioni di utilizzatori reali mensili in cina e 625 milioni al di fuori della cina soprattutto in brasile india indonesia giappone malesia le filippine la corea del sud la thailandia questi sono dati crescenti quindi dal più alto numero di utilizzatori verso il numero più basso gli stati uniti il vietnam e poi un altro milione di utilizzatori suddivisi tra 56 paesi e o regioni sono delle stime naturalmente approssimative ma ci dicono due cose sostanzialmente la prima cosa è che questa è una app che ha un impatto globale fortissimo cioè ci sono un bilione e mezzo non un milione un bilione e mezzo di persone che utilizzano questa app per modificare l'immagine digitale del proprio volto nei circuiti della comunicazione digitale contemporanea l'altro dato è che voi non vedete in questa classifica l'italia la francia la germania vedete invece la cina il brasile l'india l'indonesia giappone la malesia cioè dei circuiti nazionali di utilizzo di queste app che però sono al di fuori della nostra diciamo sfera di osservazione europea non so quanti di voi conoscessero conoscano me tu io lo uso abbastanza spesso da quando lo studio anche per capire come evolve nel tempo quest'app però molto spesso i miei colleghi amici anche molto giovani anche nativi digitali non la conoscono allora la pagina web principale del sito ufficiale di me tu comincia con una domanda che recita what is me tu no che cos'è me tu e la trovate questa pagina qui nella nella slide insieme alla slide trovate questa immagine di grafica digitale con dei personaggi che sono tratti dall'immaginario diciamo di cultura visiva popolare contemporanea piuttosto globale ma soprattutto asiatica e e vi trovate del in questa immagine diciamo molto colorata della una versione diciamo così un po fumettistica di una metropoli con dei personaggi che sono anch'essi abbastanza fumettistici e umanoidi che sono tutti profondamente concentrati unicamente concentrati nelle attività tipiche di me tu del mondo di comunicazione che sta dietro queste app allora quali sono queste attività se guardate questa immagine spero che possiate vederla abbastanza bene sostanzialmente ci sono due attività che sono rappresentate in questa in questa vignetta no potremmo definirla che però la vignetta con la quale questa app scaricata usata da un bilione e mezzo di persone anche di più si presenta ai suoi utenti ci sono questi personaggi che personaggi diciamo fumettistici tratti un po dalla cultura visiva della cultura popolare fumetti contemporanea che si scattano dei selfie oppure li condividono nei social network ecco se potessimo interagire un po di più mi piacerebbe chiedervi che cosa ne pensate di queste immagini come possiamo leggere queste immagini semioticamente per capire qualcosa di più sul mondo sulla fetta di mondo sulla sull'ambiente socio culturale che sta dietro dietro me tu allora ci sono molti aspetti di queste immagini che richiederebbero un'analisi semiotica approfondita ma ce n'è uno che sicuramente non vi sfugge mi scusi professore buongiorno potrebbe mettere la presentazione a schermo intero per cortesia sì certo grazie si vede meglio così forse sì 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 grazie ecco grazie a lei allora c'è un c'è un aspetto di questa di queste immagini che probabilmente non vi sfugge in questo mondo a fumetti i personaggi che possiamo riconoscere come femminili si scattano dei selfie con il tipico gesto di distendere il braccio destro e fissare lo schermo del telefonino nella tipica posa che è oramai quella che associamo a questo genere di auto rappresentazione mentre i personaggi che possiamo riconoscere sia pure nella trassicurazione del fumetto come maschili ammiccano ambiguamente ai personaggi femminili mentre puntano il dito verso gli stessi selfie che sono contemporaneamente simultaneamente visualizzati negli schemi dei loro telefonini cioè il messaggio di questa immagine che quella con la quale me too si presentava adesso magari hanno cambiato ma insomma il messaggio con cui si presenta questa app è molto chiaro in questo mondo fumentistico di me too le apps aiutano gli esseri gli individui di genere femminili a scattare dei selfie beautificati quindi abbelliti a beneficio di partner osservatori spettatori maschili che sembrano apprezzata apprezzarli qui è un'app molto moderna veneristi che adesso vedrete molto utilizzata il mondo digitale eccetera eccetera però attraverso questa diciamo questo quadro tecnologico questa questo mondo di rappresentazione di condivisione del volto digitale passano poi dei rapporti di potere di genere che sono quelli tradizionali in moltissime culture soprattutto tradizionali in culture tradizionali e ea inclusione della cultura tradizionali cinese cioè le donne si rappresentano rappresentano il proprio volto le tecnologie aiutano questa rappresentazione c'è una illusione di impressione per lo meno di autonomia nella rappresentazione che è data dal gesto del selfie sono io carattere personaggio di sesso femminile che scatto il mio selfie però questi selfie sono a beneficio di osservatori spettatori modello diciamo così che hanno i tratti della mascolinità che non scattano selfie li ricevono allora diciamo che in questo mondo fumettistico il tono passionale forico non direbbero i semiotici della scena e positivo e euforico e così euforico e anche il testo che descrive la missione di mei tu appunto nella pagina web di cui vi sto parlando della quale stiamo proponendo una sommaria analisi semiotica bella leggo in inglese così come si trova anche nel sito internazionale diciamo globale di mei tu founded in october 2008 with a mission to make the world a more beautiful place mei tu is powered by artificial intelligence and stands as china's leading imaging and video editing social media platform immagino sono tutti mastichino un po l'inglese insomma fondata nell'ottobre del 2008 con la missione di rendere il mondo un posto più bello mei tu e power cioè e alla forza l'energia e potenziata dall'intelligenza artificiale e si presenta alla posizione della piattaforma leader in cina per la produzione di immagini di video e la loro produzione e post a beneficio dei social media la frase che interessa molto questo seminario anche dottorale insomma sulla sulla bellezza è proprio questa frase centrale make in the world a more beautiful place non rendere il mondo un posto più bello che diciamo deve un po tirare la nostra attenzione e merita l'analisi più approfondita sia da parte dei filosofi che da parte dei semiotici allora da un punto di vista filosofico naturalmente non può non impressionare la confusione tra i livelli della realtà e della rappresentazione cioè la app o le app di mei tu sono delle app che abbelliscono le immagini digitali del mondo e non il mondo stesso però diciamo questa produzione di belle immagini del mondo viene presentata come una attività di abbellimento del mondo stesso con una diciamo evidente ma anche esplicita e programmata confusione tra questi due livelli abbellire le immagini del mondo significa sostanzialmente abbellire il mondo allora questa poi è la descrizione di mei tu della missione di mei tu nelle diverse pagine del sito si legge from its earliest days mei tu has created a series of software and hardware products with the concept of beauty or mei a decor mei in effetti mei adesso non riesco a visualizzare il logogramma cinese significa bellezza allora qui diciamo il semiotico deve un po collaborare anche con l'antropologo quello storico delle culture perché la domanda che dobbiamo porci è che tipo di bellezza propone mei tu quando addirittura integra il termine cinese per la bellezza cioè mei all'interno del nome di questa di questa app allora la domanda che possiamo farci e forse mei tu promuove un'idea diciamo così tradizionalmente cinese della bellezza un'estetica cinese della bellezza l'ideologia tradizionale della bellezza nella storia della cina che ovviamente è una storia molto complessa ma insomma ci si può chiedere tuttavia se questa app promuova dei valori estetici un senso della bellezza un senso di che cosa sia un volto bello che faccia riferimento a questa ideologia della bellezza in cina allora tra gli esperti di filosofia della bellezza di estetica sostanzialmente in cina ma anche in altri paesi c'è un ampio dibattito sul significato di questo logogramma di questa parola mei no che significa appunto bellezza in cinese è un logogramma è una parola diciamo così in maniera molto semplicistica che è stata utilizzata per più di 3 mila anni e soprattutto gli studiosi dell'antichità e i primi a riflettere sul senso della bellezza nell'estetica cinese probabilmente influenzati anche dal confucianesimo che è una corrente filosofico spirituale estremamente presente all'interno della cultura cinese ebbene influenzati da questo utilitarismo di stampo diciamo spirituale legato al confucianesimo e interpretavano questo logogramma il logogramma di mei come un logogramma che ne fondeva essenzialmente due uno che significava ampio grande e l'altro che significava pecora forse vi stupirà ma il l'etimologia l'etimologia in cina funziona un po diversamente che l'etimologia diciamo nelle lingue occidentali europee ma l'etimologia di questo logogramma cinese mei che significa bellezza che ritrovate mei tu deriva da due logogrammi che danno un po il senso di dell'origine di questo concetto da dove viene il senso della bellezza in cina e secondo questi antichi etimologisti i primi a riflettere sul senso delle parole in cinese vi sarebbero due logogrammi e dunque due concetti all'interno del logogramma mei cinese per la bellezza un concetto di larghezza e un riferimento alla pecora che cosa che era per quella con la bellezza allora gli esperti di estetica cinese e soprattutto i primi esperti di estetica cinese stiamo parlando di un dibattito che si sviluppa soprattutto a partire dai primi decenni del ventesimo secolo hanno interpretato questa fusione di due logogrammi intendendoli come un riferimento alla deliziosità alla bontà e in generale ad un senso di gusto gusto inteso se volete con il doppio senso che ha anche nell'ideologia occidentale la bellezza no per noi in italiano il gusto è quello che ci permette di gustare una pietanza appetitosa ma anche quello che ci consente di vestire adeguatamente di comportarsi adeguatamente in società un uomo di buon gusto una pietanza di ottimo gusto no sono due mogli utilizzare il gusto la parola gusto il concetto gusto che sono molto imbricati no guavoli ha dato una conferenza molto bella una volta su questo questa duplice storia diciamo filosofica del concetto di gusto ebbene anche in cina dietro il logogramma della bellezza trovate questa idea di deliziosità di gusto di sapore cioè il fatto che da un lato c'è un riferimento al cibo forse considerato come il più delizioso quello che si offre nei banchetti che si offre mi dispiace io sono vegetariano quindi non offrirei mai una pecora ma comunque probabilmente la cultura cinese tradizionale questo era l'archetipo del cibo delizioso e l'archetipo del cibo delizioso collegato ad un concetto di grandezza di ampiezza esprime l'etimologia iniziale secondo appunto i primi esperti della del senso cinese della bellezza sarebbe legato appunto a qualcosa che ha a che vedere con il gusto che ha a che vedere con la sensazione del sapore ma una sensazione allargata del sapore no allora in queste prime interpretazioni sono state un po criticate da interpretazioni successive perché si riteneva che fossero diciamo influenzate eccessivamente dal confucianesimo che ha sempre come dire un'idea utilitaristica dei concetti etici no per cui la bellezza per il confucianesimo è legata alla bontà noi poi il concetto che ritrovate anche nell'estetica greca questa inscindibilità di ciò che bello di ciò che buono che però nel confucianesimo nell'utilitarismo e del confucianesimo si tinge anche di una colorazione diciamo così utilitaristica materiale cioè è bello ciò che buono anche per i sensi per il gusto no quindi si può attribuire un concetto di bellezza a ciò che dà piacere al corpo a ciò che è delizioso per il corpo allora non mi dilungo sulla diciamo sulle interpretazioni della delle ideologie della bellezza rispetto al logogramma mei e al suo al suo significato ma vorrei adesso addentrarmi nell'analisi della app che porta questo concetto questo logogramma nel proprio nome la domanda che ci stiamo facendo sostanzialmente questa cioè da un lato abbiamo questo concetto di mei il logogramma di mei la bellezza in cina che ha una sua storia e questa storia perlomeno apparentemente viene assorbita dalla app quello che possiamo chiederci in quanto semiotici filosofi della cultura filosofi della comunicazione e se questa app risulti un app che integra questo valore diciamo propriamente cinese della bellezza un valore utilitaristico no legato a questa tradizione molto forte nelle arti nella letteratura nella pittura cinese cioè quale tipo di bellezza in sostanza viene promossa da mei tu e allora possiamo capirlo forse cercando di andare più in profondità nell'analisi della app vera e propria allora questo era il modo in cui si presentava il menu delle opzioni di questa app nel momento in cui io l'ho analizzata l'ultima volta poi sapere quando si analizzano dei dispositivi delle app o comunque quando si analizza il mondo digitale si deve sapere che si sta analizzando qualcosa di sfuggente qualcosa che esiste ma che probabilmente il giorno dopo potrebbero non esistere più perché la tecnologia evolve perché i dispositivi evolvono perché diciamo è un mondo che va molto più in fretta della riflessione accademica che va molto più in fretta della riflessione semiotica questo però non vuol dire che le nostre riflessioni non abbiano nessun senso hanno un senso rispetto a una certa tappa dello sviluppo della tecnologia cioè spesso gli accademici ma anche gli studenti si lamentano del fatto ah sì ma un mondo che va troppo veloce quello della comunicazione l'università non riesce a star dietro ma questo è naturale ma non riuscire a star dietro non significa che noi non dobbiamo comunque correre dietro la tecnologia per cercare di capirla e analizzarla quindi dobbiamo comunque cercare di cogliere qualcosa allora questo menu a sei funzioni la funzione edit la funzione beauty fai video collage made to artificial intelligence e tips noi ci concentreremo soprattutto sulla funzione che ci interessa di più cioè quella denominata più di fai allora vorrei che qualcuno di voi proponesse spontaneamente una breve analisi semiotica di questa schermata di questa diciamo della schermata con la quale si presenta la app di mei tu con le sue funzioni non vi sembra di cogliere qualcosa nei colori di questi quadrati associati le diverse funzioni dell'app e soprattutto nelle icone che sono associate a questa queste funzioni ricordate questa breve analisi in chiave gender studies che abbiamo proposto della prima immagine di sé che mei tu da nella pagina iniziale del proprio sito web qui trovate qualcosa di simile edit è rappresentato da una specie di gomma per cancellare magica con delle stelline che vi dicono attraverso questa funzione voi potrete cancellare le cose che non vi piacciono lo farete in maniera magica no il modo in cui noi cancelliamo nel mondo digitale è molto diverso dal modo in cui noi cancelliamo nel mondo non digitale perché cancellare nel mondo non digitale sempre comporta delle tre mentre le tracce della cancellazione tale sono minime e comunque invisibili se non agli occhi di super esperti no poi avete un'icona di chuck che c'è una giusta posizione un po alla mondrian di quadrati e rettangoli che rappresenta collage i tips sono rappresentati da un'icona che raffigura una bussola però guardate quali icone rappresentano l'abbellimento beautiful e l'utilizzo della intelligenza artificiale sono due faccine due testoline femminili o che comunque vengono rappresentate con i tratti stereotipa che stereotipicamente associati alle teste ai volti rappresentati schematicamente come femminili capelli lunghi con un certo taglio di capelli per beautify capelli lunghi con un altro taglio di capelli per me to artificial intelligence anche il colore associato a beautify e il rosa che quello che diciamo non tanto nella cultura cinese ma nella cultura occidentale globalizzata viene associata a tutti i giocattoli per bambine che trovate nei negozi per giocattoli e il colore diciamo della associato alla femminilità che cosa ci dice allora questa questa prima schermata dell'app ci dice che sì abbiamo una funzione di beautification possiamo attraverso l'intelligenza artificiale abbellire l'immagine del volto ma questo volto è femminile questo volto è pensato come un volto che deve essere abbellito deve essere abbellito per quelle funzioni che abbiamo per quella logica che abbiamo visto immagini di me tu cioè la donna deve abbellire il proprio volto per l'uomo e lo deve fare esattamente come lo faceva quando la cosmetica non era digitale ma reale modificare il proprio volto in funzione di in questa schermata in particolare poi avete espresso in maniera molto come dire spontanea ed è questo poi che preoccupa ancora di più che questa beautification debba essere femminile se l'università di torino producesse un'app di questo tipo no per l'abbellimento dei volti degli studenti delle studentesse o di docenti e professori professoresse e proponesse questo tipo di icona immediatamente e giustamente il comitato per le pari opportunità dell'università andrebbe su tutte le furie dicendo ma come potete insinuare che l'unico volto che deve essere abbellito della tecnologia e quello femminile perché non ci mettete anche un volto schematicamente presentato come un volto maschile però qui non siamo nel mondo diciamo così ovattato dell'università in cui si rispettano si dovrebbero almeno rispettare tutti i diritti prerogative di genere eccetera eccetera qui siamo nel mondo corporate cioè si propone quello che si pensa potrà vendere e quello che si pensa potrà vendere è una app di beautification destinata a un pubblico femminile che vuole trasformare digitalmente il proprio volto per un pubblico maschile allora sono le 9 50 ci fermiamo ancora dieci minuti e poi riprendiamo tra dieci minuti esatti con alcune conclusioni e poi la parola a cristina la professoressa elza solo cristina voto che introdurranno in maniera più approfondita e finalmente vi daranno l'opportunità anche di vedere un altro volto non soltanto il mio è questo seminario quindi facciamo dieci minuti di pausa non di più torniamo al nostro powerpoint no abbiamo cominciato a discutere delle diciamo così logiche di genere no che si insinuano in questa acqua apparentemente moderna digitale eccetera allora adesso devo fare una cosa un po come dire che mi imbarazza un po un imbarazzante devo farvi vedere come funziona questa non posso utilizzare le foto di altre persone perché come sapete come scopriremo anche insieme no il volto è una parte molto protetta del corpo dalla legislazione europea quindi bisogna avere sempre tante autorizzazioni per poter fare ricerche sul volto delle persone utilizzare le immagini noi ricercatori che sono dentro fa se lo lo sanno benissimo allora questa è una foto che è stata da me scattata con un iphone 7 che avevo all'epoca nel 2018 mi rappresenta nel mio appartamento di shanghai con i miei vestiti cinesi non quelli con i quali intanto mi diverto a facciamo far ridere un po i miei studenti e miei studentesse a shanghai loro ovviamente non portano più questi vestiti questi abiti però apprezzano il fatto che appunto l'occidentale come me voglia in qualche modo appropriarsene però stanno tornando sono trovato in moda e anche in forme diciamo abbastanza interessanti dal punto di vista linguaggio della moda comunque diciamo questo non è un grado zero della rappresentazione del mio volto perché è già una rappresentazione del mio volto estremamente condizionata dalla tecnologia a disposizione si tratta di un selfie anche se non si vede come sapete potete scattare dei selfie che nascondono la propria identità così come potete scattare le foto facendole sembrare dei sensi non li chiamiamo io li chiamo pseudo selfie e cripto selfie comunque questo è un cripto selfie cioè un selfie che però non si presenta come tale perché ha ottenuto bene il cellulare in maniera tale da avere un'immagine frontale e questo sguardo diretto in camera senza mostrare il braccio appunto che teneva il cellulare e ci sono altri condizionamenti la luce la posizione tutte cose che la semiottica della fotografia non so pensate a per luigi basso fossali maria giuda vero semiottica della fotografia roland bart la chambre claire la camera chiara oppure e chamarie floche le forme dell'impronta altri manuali di semiottica della fotografia tutte queste cose noi sappiamo sappiamo che la fotografia ha un linguaggio e che questo linguaggio produce dei sensi diversi a seconda dei parametri a seconda delle scelte che vengono fatte nella rappresentazione fotografica però noi non ci occupiamo di questo diciamo noi consideriamo questa foto adesso come se fosse un grado zero nel senso che questo è il grado zero che è offerto dalla tecnologia disponibile il mio iphone 7 quando non ha filtri non aveva filtri con diciamo i suoi algoritmi interni di produzione di immagini digitali mi dava come risultato questa immagine questa immagine ripeto non è un grado zero ma è un grado zero per le app di post produzione cosa succede quando io upload questa immagine nella app di abbellimento del volto di me tu ho a disposizione una serie di opzioni firm body shape enlarge dark circle brighten come vedete ci sono delle opzioni che riguardano il volto per renderlo più sodo nell'immagine ci sono delle opzioni che riguardano la forma del corpo per modellare il corpo nell'immagine ma soprattutto ci sono delle opzioni che riguardano gli occhi avete un'opzione enlarge allargamento degli occhi avete un opzione dark circle eliminazione delle occhiaie e avete un'opzione brighten quindi diciamo accrescimento della luminosità degli occhi sono delle opzioni però non sono delle opzioni naturali sono delle opzioni che rimandano a un funzionamento algoritmico che utilizza intelligenza artificiale che è stato però programmato da ingegneri in cui avevano i quali avevano una certa cultura dietro di sé ma erano anche una certa cultura davanti a sé cioè una certa cultura relativa agli acquirenti al pubblico ideale agli utilizzatori di questa di questa app di questa tecnologia allora questo è quello che succede alla mia foto se utilizzo la funzione automatica di allargamento degli occhi ci sono poi delle altre opzioni che permettono di configurare in maniera personalizzata questo allargamento ma diciamo l'algoritmo automatico di me to mi propone di allargare gli occhi in questa maniera cioè mi suggerisce che per avere un bel volto o un volto abbellito io dovrei utilizzare questa opzione con questo grado con questa misura di allargamento e l'effetto si vede molto di più naturalmente se comparate l'immagine di sinistra con l'immagine di destra l'allargamento non è così vistico caricaturale no la caricatura spesso non fa altro che prendere lo sappiamo molto bene dai carracci dai pittori del XVII secolo in poi quindi qui l'intelligenza artificiale caricatura perché non introduce un allargamento eccessivo ma comunque come risultato da un allargamento vistoso degli occhi quindi qui c'è una riflessione diciamo di semiotica della cultura semiotica postcoloniale della cultura che è abbastanza che è abbastanza semplice e abbastanza evidente non vi sfuggirà sicuramente che di queste opzioni presso le app diciamo in circolazione nel mercato occidentale dell'abbellimento digitale trovereste forse sicuramente le opzioni relative al volto al corpo all'eliminazione degli occhiaie all'aumento della luminosità degli occhi ma quella dell'allargamento digitale degli occhi non è che una riproduzione almeno a mio modo di vedere in chiave digitale in chiave di intelligenza artificiale di stereotipi che circolano in Asia da decenni da quando diciamo delle egemonie culturali ed estetiche si sono stabilite in Asia rispetto alla forma somatica in caratteristica del volto caucasico la desiderabilità degli occhi caucasici la desiderabilità degli occhi grandi degli occhi diciamo che si attribuiscono agli occidentali che si attribuiscono poi anche ai personaggi del mondo immaginario di Giappone, Cina, Manga eccetera quindi è una funzione digitale che però assorbe delle egemonie estetico-sociali socio-estetiche che sono in realtà pre-digitali si tratta soltanto di una versione mascherata dall'intelligenza artificiale di pregiudizi estetici che ripeto però sono i pregiudizi estetici senza una parità di genere sono i pregiudizi estetici di carattere socio-culturale legati alle relazioni egemoniche tra i gruppi etnici in periodi coloniali anche dal punto di vista economico non soltanto politico e in più però si dirigono a un genere di utente che è sostanzialmente immaginato come femminile ecco questo invece è l'effetto di un altro filtro che viene proposto di default sempre da Meitu e questo filtro mi propone di abbellire il mio volto modificando la mia pelle il modo in cui la mia pelle appare dopo la post-produzione dell'immagine e attenzione in inglese nella versione inglese di questa app che è quella che io ho poi analizzato studiato e che ho utilizzato per questi esperimenti mi viene proposto come smoothened skin allora smoothened in inglese significa diciamo appianare, eliminare le asperità rendere più scorrevole rendere più carezzevole ci sono diverse diciamo traduzioni di questo termine però vi invito a riflettere ancora una volta su quello che c'è dietro la trasformazione del volto cioè in che cosa consiste questo smoothening della mia pelle the smoothening of my skin sostanzialmente quello che accade è che il mio volto viene biancato cioè è la pigmentazione del colore della pelle del mio volto che cambia nel senso di una maggiore presenza di luce ma anche nel senso di una diciamo tonalità cromatica che è decisamente più chiara rispetto a quella di partenza quindi anche lì trovate diciamo nel funzionamento dell'app e nel modo in cui questo funzionamento viene denominato un pregiudizio che però viene mascherato da un lato dall'intelligenza artificiale l'app ci dice non siamo noi a farlo l'intelligenza artificiale che decide però non ci dice che dietro l'intelligenza artificiale c'è qualcuno che l'ha programmata e c'è qualcuno che ha deciso che questo effetto di abbellimento automatico sostanzialmente dovesse coincidere con uno sbiancamento della pelle del volto dall'altro lato questo pregiudizio viene mascherato dalla scelta lessicale non mi si dice puoi abbellire il tuo volto sbiancandolo perché forse sarebbe un po' eccessivo anche in una cultura diciamo asiatica quella cinese, quella indiana mi si dice you're gonna smoothen your skin cioè la renderai più soft più soffice più carezzevole la pianerai eliminerai le asperità eccetera eccetera in realtà mi si sta pronendo un effetto estetico che è molto simile a quello delle creme sbiancanti che si vendono in certi mercosì vendevano perché adesso sono state eliminate anche per legge da molti mercati che si vendevano in molti mercati asiatici qualche anno fa mi presentavo ai miei studenti nel corso di semiotica che non tengo più le pubblicità prodotte in India per pubblicizzare i cosmetici sbiancanti cioè quelli che consentivano di apparire con una pigmentazione più chiara rispetto a quella che si aveva e molti miei studenti rimanevano allibiti nel senso che questi spot per esempio presentavano una giovane ragazza che non riusciva ad avere successo sul lavoro che si era formata come giornalista che aveva studiato scienza della comunicazione ma che non riusciva a trovare un impiego a un certo punto utilizza questa crema che si chiamava all'epoca fair and handsome cioè chiaro e bello e voilà effetto visivo nello spot sbiancamento del volto e poi nella sequenza successiva si vede questa ragazza che fa la reporter da luoghi ameni esotici del mondo eccetera è chiaro che per una coscienza una sensibilità europea contemporanea per uno studente o studentessa di un corso dell'Università di Torino oggi questo spot risulta dalle venature razziste associa il successo professionale a una pigmentazione del volto per questo è inaccettabile però la cosa che stupiva di più i miei studenti è che poi facevano loro vedere che questi prodotti queste creme per esempio fair and handsome erano prodotti che facevano capo ad una grossa enorme multidazionale della cosmetica che nel caso specifico era la Procter & Gamble allora la Procter & Gamble era la stessa che poi in quegli anni pubblicizzava la DAV ricordate la campagna per la bellezza autentica le immagini di donne con le rughe eccetera eccetera cioè a seconda poi della ideologia estetica prevalente a livello locale il mercato si adatta e vende o un'idea di naturalità difesa della tecnologia oppure un'idea di naturalità da eliminare attraverso la tecnologia e anche qui c'è un disequilibrio postcoloniale quella che si vende nel mercato cinese della bellezza digitale della cosmetica digitale è l'idea di un volto femminile che non va bene così com'è ma non va bene così com'è anche dal punto di vista etnico cioè deve essere sbiancato questo volto i suoi occhi devono essere allargati devono prendere una forma diversa rispetto a quello che hanno si stanno riproducendo degli stereotipi evidentemente razzisti o pigmentocratici perlomeno attraverso questa tecnologia guardate poi che cosa succede anche quando ci addentriamo nelle diverse opzioni che sono offerte da Meitu e ci rendiamo conto del fatto che c'è una sovrapposizione di gamme non ideologiche con gamme ideologiche cioè da un lato mi si propone di rendere il mio volto più cool o più warm cioè più freddo o più caldo e dall'altro lato mi si propone di renderlo più bianco però notate bene mentre cool e warm sono in opposizione quindi io posso scegliere tra più freddo o più caldo il whiten non ha una sua posizione quindi non c'è nemmeno la menzione del darken my skin perché darken my skin è male dal punto di vista estetico io posso solo sbiancare il mio abbellimento l'abbellimento del mio volto può solo andare nel senso di una maggiore diciamo chiarezza della pigmentazione del mio volto e non di una quindi naturalmente questo rientra in tutta una serie di fenomeni come il terrore che diciamo molti individui cinesi soprattutto di sesso femminile anche asiatici non soltanto in Cina hanno della bronzatura no? ci sono dei costumi che si vedono spesso insomma qualche volta nelle spiagge cinesi che coprono completamente il corpo proprio perché il pallore quasi diafano della pelle è un valore estetico associato alla bellezza nella Cina contemporanea viene integrato dalla tecnologia e anche nella intelligenza artificiale non viene messo in questione e però non corrisponde assolutamente alla storia diciamo culturale locale di questo concetto di May in cui ciò che conta è appunto la presentazione della bellezza come legata alla bontà utilitaristica tutt'altro qui ci sono dei valori estetici che derivano dal contatto fra due culture estetiche diverse un contatto che però non è alla pari è un contatto diseguale che comporta delle egemonie socioestetiche infine la app May2 mi propone anche di vedete tutti questi log scusate faccio una piccola parentesi per dirvi che vedete sempre questi loghi nelle mie slides alcuni li conoscete perché c'è il logo dell'Università di Torino però c'è anche il logo di FACETS che è il progetto la bandiera dell'Unione Europea di IRC che sono i finanziatori e poi il logo di FRIAS il istituto di studi avanzati dell'Università di Friburgo dove io lavoro in questo periodo anche se sono in Alsazia in Francia per vivere però lavoro dall'altra parte della frontiera in Germania a Friburgo in questo periodo dell'anno diciamo fino a fine febbraio prossima volta invece non domani ma la prossima settimana ci vedremo da Parigi dove continuerò a lavorare invece nei prossimi quattro mesi ma per noi non cambia nulla noi siamo sempre qui in questo anfiteatro virtuale quindi vi dicevo questa app made to poi ha anche un'opzione che mi dice come posso acquisire una bellezza naturale per un semiotico è straordinario trovare una app che mi dice guarda come puoi essere naturalmente bello è un invito a nozze per il semiotico perché il semiotico subito dice vabbè ma naturale in che senso com'è la mia bellezza naturale questa è una cosa che va molto di moda anche in occidente oggi bisogna essere naturali bisogna avere una bellezza naturale però entriamo dentro questa naturalità smontiamola cerchiamo di vedere che cosa c'è dentro allora se dico alla app di rendermi naturalmente bello il risultato che mi propone è questo cioè di un volto che sostanzialmente è ringiovanito e questa è già una prima come dire convenzione ma anche un primo bias un primo pregiudizio ideologico cioè il fatto che la bellezza sia associata a un volto giovane ma non a un volto più maturo che comunque l'abbellimento di un volto debba coincidere con il suo ringiovanimento cosa che non è affatto scontata non è affatto naturale non solo il volto naturalmente bello viene dimagrito quindi ancora un altro pregiudizio il fatto che il volto magro diciamo sia naturalmente bello rispetto al volto diciamo più paffuto e poi tratto tipico di questa app asiatica cinese in particolare di nuovo allargamento degli occhi e sbiancamento quindi Meitu mi propone come versione abbellita ma naturale di me stesso un me stesso più giovane un me stesso più magro un me stesso più wasp diciamo più vicino a un white american protestant di caucasico di canagione molto chiara e con occhi diciamo grandi rispetto alla proporzione del volto quasi come un fumetto naturalmente se cominciamo a smontare la naturalità questa naturalità si scopre come tutt'altro che naturale si scopre come costruita allora questo è uno degli ultimi modelli di cellulare di telefonino pubblicizzato da Meitu perché Meitu dato di successo enorme immaginate quali profitti può generare una app scaricata da un miliardo e mezzo di persone cioè qui stiamo parlando di una corporation che ha oramai ramificazioni ovunque nell'ambito della bellezza della cosmesi allora sì Meitu parte come app però poi comincia a progettare i propri cellulari allora il cellulare di Meitu è un cellulare molto particolare perché permette di fare solo dei selfie non permette di fare delle foto o comunque che è fatto con una diciamo morfologia e un'ergodinamica tale con delle affordances come direbbero i semiotici tali da presentarsi come un cellulare che non vuole più rivolgersi verso l'esterno cioè quello che importa con questo cellulare è fare una foto di se stessi però diciamo quello che è più interessante è che Meitu poi non produce soltanto cellulari comincia a un certo punto a produrre anche cosmetici e a produrre anche dei servizi di consulenza per chirurgia plastica lì il cerchio un po' si chiude perché voglio dire io app ti abbellisco ti rendo più bianca e mi rivolgo appunto a un pubblico femminile perché è il pubblico di riferimento è l'utilizzatore modello di questa tecnologia che noi leggiamo come se fosse un testo come ci ha insegnato diciamo Umberto Eco sì ti faccio sbiancare il tuo volto te lo faccio dimagrire te lo faccio ringiovanire ti allargo gli occhi però prima o poi tu uscirai di casa prima o poi incontrerai questo uomo questo ragazzo al quale hai mandato dei selfie in certi casi no non lo incontrerai mai perché magari rimani chiusa nel tuo mondo digitale proprio perché oramai ti rendi conto che il tuo avatar non ti corrisponde più non corrisponde più al tuo corpo quindi tu devi continuare a vivere attraverso il tuo avatar però se vuoi continuare a vivere anche con il tuo corpo biologico allora lo devi cambiare e come lo devi cambiare? lo devi cambiare esattamente come l'hai cambiato digitalmente e quindi ti vendo i cosmetici perché tu possa assomigliare al tuo avatar ti vendo una consulenza così che io tu possa assomigliare attraverso i nostri cosmetici di me tu al tuo avatar ma ti vendo anche una consulenza per chirurgia estetica perché noi ti rifaremo il volto esattamente come tu hai potuto rifartelo attraverso la nostra tecnologia digitale cioè c'è un'inversione di influenza tra mondo biologico e mondo digitale e il mondo digitale con i suoi simulacri che ci dice come dobbiamo apparire nella realtà vi ricordate le riflessioni sul mondo instagrammabile poi ecco questa è un'altra pagina web di Meitu ma sono tutte così se voi andate a vedere le altre app che appunto propongono dei servizi di beautification si comportano quasi tutte nello stesso modo your photos your brand your story e uno dei degli slogan di Meitu è quello di rendere all pictures all of your pictures shareable che è un concetto molto strano perché è come se diciamo l'immagine di un volto potesse essere condivisibile soltanto a seguito di un abbellimento digitale soltanto a seguito di una post produzione quindi l'idea è il tuo volto così com'è non lo puoi condividere l'immagine digitale del tuo volto così com'è non la puoi condividere noi rendiamo il tuo volto condivisibile che è un po' una inversione diciamo di quanto il volto è dal punto di vista forse dell'evoluzione della nostra specie cioè come un'interfaccia sostanzialmente la più importante interfaccia la più sensibile interfaccia corporea attraverso la quale interagiamo con gli altri qui ci si dice no questa interfaccia non è pronta noi la trasformiamo perché sia condivisibile però c'è anche l'idea che in realtà il volto diventi un brand e questo è qualcosa che vedremo credo in molte presentazioni del nostro seminario cioè l'idea che sia necessario abbellire il volto e ancora una volta un volto femminile ancora una volta guardate questa fanciulla rappresentata in questo schermo evidentemente si tratta di una specie di mix in cui però prevalgono mix diciamo di caratteri somatici etnici mix nel quale però prevalgono dei tratti chiaramente occidentali no allora però il messaggio è quello che il volto diventa il brand attraverso il quale ci si presenta agli altri ma ci si presenta agli altri non soltanto nella vita sociale ci si presenta agli altri anche nella vita professionale bisogna modificare abbellire il proprio volto perché è attraverso il proprio volto che ci si pubblicizza in quanto in quanto individui no qui rientrano tante questioni che riguardano l'influenza eccetera eccetera make every photo worth sharing no come vi ho detto allora la cosa interessante è che ci sono diversi pattern di beautification che io posso utilizzare all'interno di questa app e sono divise per categorie cioè posso per esempio beautificare posso abbellire l'immagine di un cibo sapete che cos'è il food porn cioè questa mania di condividere immagini di piatti succurenti adesso si fa un po' meno perché non ci sono più nei bar nei ristoranti guardate come vengono proposte queste categorizzazioni cioè c'è il cibo ci sono gli oggetti ci sono i paesaggi poi c'è una funzione de fog che spuria rispetto a questa categorizzazione e poi ci sono le persone che sono nella stessa categoria degli oggetti sono la stessa categoria cioè la stessa categorizzazione degli oggetti la stessa categorizzazione del cibo e ancora una volta hanno un'iconcina femminile cioè così come ti è beatifico ti rendo più bello l'immagine digitale di un piatto succulento o di un oggetto appena comprato o di un paesaggio così io ti rendo più bello il volto di una di una fanciulla si possono però naturalmente fare anche degli incroci strani per esempio io posso scegliere di abbellire il mio volto attraverso un filtro che invece è dedicato al cibo con un effetto di senso che è molto interessante per la semiotica questa luce dorata che viene proiettata sul mio volto è come se fosse quella che bagna e diciamo copre leggermente i prodotti appena sfornati di una panetteria c'è un incrocio tra come dire post produzione di immagini di tutto ciò che può essere desiderabile che a volte diciamo dà luogo a degli effetti sinestetici particolari e non può mancare naturalmente tutta una serie di filtri in cui interviene diciamo il trend del momento quindi la creazione di un effetto di vintage di nostalgia eccetera eccetera io vi esorto molto anche per le tesine che poi dovrete produrre per chi vorrà per chi vorrà sostenere l'esame di filosofia della comunicazione in questo modo a riflettere sugli automatismi a riflettere sul modo in cui i nostri cellulari ci propongono di fare delle cose con il nostro volto per noi oramai è diventata diciamo una pratica quotidiana sulla quale non riflettiamo più diciamo che questi filtri ci appaiono non so come dei peperoni delle zucchine delle carote qualcosa che nel nostro mondo non ci chiediamo più perché esistono le carote però i filtri di post-produzione del viso non sono delle carote sono qualcosa detto cui c'è una produzione ci sono delle logiche industriali ci sono logiche culturali le logiche egemoniche in questo caso un certo modo di rapportarsi al passato eccetera eccetera tutto questo noi cercheremo di decostruire e di analizzare attraverso la la semiotica in questo seminario di filosofia della comunicazione che però sarà molto articolato prevederà molte tappe su questo io forse lascerei la parola alle due organizzatrici principali scusandomi di aver parlato così tanto oggi cioè alla professoressa Elsa Soro e credo anche la professoressa Cristina Voto perché diano un po' il via anche alle danze ecco Elsa e Cristina vi rappresento perfetto grazie mille Massimo è un grandissimo piacere essere qua anche con la mia collega Cristina saluto tutti gli studenti tutte le studentenze siamo molto siamo molto emozionate è il vostro primo giorno di scuola per questo corso quindi insomma ci medesimiamo anche se in questo formato diciamo della continua distanza e mediazione bene è un grande piacere poter presentare dopo questa bella presentazione del professor Leone sulla culturabilità diciamo della bellezza del volto di presentare nel vostro corso nel corso di filosofia della comunicazione questo seminario che abbiamo intitolato assieme al professor Leone assieme alla mia collega Cristina Voto i cronotopi del volto nella cornice del progetto FACES che il professor Leone ha presentato questo progetto che si occupa delle semiotiche delle estetiche del volto nelle società contemporanee ecco il seminario è un'attività che risponde agli obiettivi del secondo anno del progetto di ricerca dopo un primo anno che appunto su cui noi ricercatori guidati dal professor Leone abbiamo lavorato sui volti artificiali sui volti transumani mettendo appunto in questione questa artificialità e naturalità dei volti abbiamo studiato e stiamo studiando come il volto è un fenomeno appunto culturale molto complesso che sta sempre sulla soglia tra natura e cultura abbiamo studiato abbiamo iniziato diciamo a lavorare a partire dagli studi di Charles Darwin sulle emozioni studi da cui appunto noi sappiamo che il volto è un importante oggetto di ricerca se diciamo pensiamo alla fisioniomica pensiamo alle ricerche sulla comunicazione non verbale ecco oggi la presentazione della lezione del professor Leone l'ho mostrato in maniera chiara ed evidente gli approcci diciamo oggi l'uso dei media dei media digitali e delle applicazioni di intelligenza artificiale l'avete diciamo visto attraverso l'analisi di Meito pone la necessità di una riflessione appunto sulla contemporaneità del volto sull'appunto sulla ecco a partire appunto dagli studi ovviamente biologici del volto che sono utili perché diciamo in qualche modo ci illustrano quello che è un sostrato fisiologico no su cui appunto poi le culture le diversità culturali creano una certe semiotica e certe estetica appunto la presentazione vi ha mostrato come la bellezza è una bellezza sempre situata ecco quindi in questo secondo anno del progetto che vi invitiamo a visitare il nostro sito web dove appunto si descrive la successione delle varie tematiche all'interno di questo macro tema del volto ecco il secondo anno del progetto ha un acronimo che è quello di SHIFT che sta per Social Cultural Habits and Inflection of Faces Across Time and Space le inflessioni social le inflessioni temporali e spaziali del volto noi come i volti cambiano nello spazio come i volti cambiano nel tempo pensiamo e questo appunto lo illustra la descrizione degli obiettivi del secondo anno di ricerca pensiamo appunto alle vecchie fotografie che mostrano volti che ci sembrano antichi non solo nella loro rappresentazione ma anche nella loro tra virgolette natura ecco la variabilità attraverso il tempo è intrecciata e ovviamente imbricata la variabilità attraverso lo spazio del volto e quindi attraverso le culture ci chiediamo sono possibili delle culture locali del volto in uno scenario diciamo globale globalizzato pensiamo ora nelle contingenti della pandemia globale l'accessorio della mascherina sanitaria in qualche modo globalizzato un accessorio che era forse in una prima istanza legato a certe a certe geografie a certe culture del volto ecco ma che cosa faremo in questo seminario che abbiamo intitolato cronotopi del volto il seminario volto appunto a indagare lo spazio e il tempo dei volti i filtri questi filtri che sono appunto geolocalizzati come il volto è un oggetto geolocalizzato come ben evidenzava il professor leone il volto è un oggetto legato a delle coordinate che sono delle coordinate spaziali e temporali allora il termine cronotopo è un termine diciamo che viene dalla fisica e dalla teoria della relatività ma nelle scienze umane viene soprattutto associato alla figura del teorico della cultura e della letteratura che proprio appunto non so che probabilmente avete incontrato in altri corsi che ovviamente è una figura importante per la semiotica in particolare per la semiotica della cultura sono sue nozioni come quella del dialogo della polifonia legata ai testi letterari e che appunto costituiscono veramente un argomento di dialogo con quella che è la semiotica della cultura ecco che cosa intendeva Bakhtin che definisce il cronotopo come l'interconnessione sostanziale dei rapporti spazio-temporali dei quali la letteratura si è impadronita artisticamente quindi diceva Bakhtin i significati per entrare nella nostra esperienza che è un'esperienza appunto sociale devono assumere un'espressione spazio-temporale cioè assumere una forma senica unibile visibile da noi senza questa espressione che è un'espressione spazio-temporale è impossibile persino il pensiero più astratto quindi ogni ingresso diceva Bakhtin nella sfera dei significati avviene soltanto attraverso la porta dei cronotopi ci piace questo concetto di porta d'accesso questo concetto di cronotopo come accesso al volti quindi per esempio negli esempi forniti da Bakhtin i cronotopi nell'epos greco un cronotopo nell'epos greco era rappresentato per esempio dalla per esempio dalla strada mentre invece nell'epoca romana dalla piazza ecco la questione o le questioni o le domande a cui vorremmo cercare di rispondere attraverso la serie di interventi che diciamo all'interno del seminario che appunto interventi che si avvicenderanno il giovedì e i venerdì mattina dalle 9.11 in seguito alla lezione del professor Leone la domanda riguarda appunto queste rappresentazioni spazio-temporali queste coordinate spazio-temporali questi accessi spazio-temporali al volto ecco ma diamo la parola ad alcuni dei protagonisti che saranno con noi da domani attraverso un breve video che il nostro videomaker già citato Roberto Gamboni ha preparato con alcune delle brevi presentazioni che i nostri ospiti ci hanno mandato a cui poi la mia collega Cristina integrerà con la presentazione dei restanti ospiti di contemporanei tecnologica società e e mi molto felice di introducere questa advanced seminaria in la filosofia di comunicazione intitlede Chronotopes of the FACE, organizzati da FASSET's postdocs e professori di Turin, Elsa Soro e Cristina Votto. È un piacere di presentare questa serie di seminari e di benvenuti tutti i partecipanti. E partecipo alle attività del centro di ricerca Omar Calabrese di Semiotica e Scienze delle Immagini. Proverò, durante il mio intervento, ad addentrarmi nel complesso, vasto e denso territorio della Automated Facial Recognition, intesa come espressione che raggruppa tutte quelle tecnologie che applicano algoritmi di visual recognition al volto umano e alle espressioni facciali. È frequente sia nei discorsi degli esperti, degli sviluppatori che mettono a punto queste tecnologie, che nel discorso delle aziende e delle istituzioni che le adottano, sentir parlare di queste forme di intelligenza artificiale soltanto come delle semplici utility in un contesto di semplice ed efficace automazione. Mi sembra invece più interessante provare a indagare quali siano gli impliciti sociali, politici, culturali e naturalmente semiotici di questa visione artificiale, dal momento che si tratta di una visione totalmente disembodied che legge come suo oggetto, un oggetto così peculiare e così sensibile quale il volto umano. Sarebbe un tema vastissimo, naturalmente, da affrontare, e cercherò di ragionare su questo a partire da una riflessione su alcuni progetti artistici che hanno posto l'attenzione proprio sulle tecnologie di riconoscimento facciale e sul modo in cui nutrono la loro visione attraverso grandi database, grandi stock di immagini. Sono appunto le cosiddette immagini di training, denominate anche immagini invisibili, ed è sul filo della ricerca artistica intorno a queste peculiari immagini che incentrerò il mio intervento. Grazie. Hola, il mio nome è Carlos Escolari, io sono professore alla Universitat Pompeu Fabra di Barcellona ed il titolo del mio intervento è Le Leggi dell'Interfaccia. In questi ultimi anni ho lavorato molto a una teoria, possiamo dire, amplificata dell'interfaccia, nel senso che è una concezione dell'interfaccia che va oltre la classica interfaccia utente, un'interfaccia grafica dell'utente. In questo senso forse possiamo trovare qualche collegamento fra le mie ricerche sulle interfacce e il vostro progetto che va sul volto. Ci rivediamo nel mese di aprile. Grazie. Buongiorno a tutti, sono Nicola Carrara, sono conservatore del Museo di Antropologia dell'Università di Padova dal 2000. Come formazione sono biologo e la mia formazione in qualche modo inciderà in quello che andrò a dire, perché il mio intervento si intitola Il volto in mostra due esempi di esposizioni temporanee. Queste esposizioni nascono da lavori di studio e di ricerca iniziati intorno al 2013 sulle ricostruzioni forensi delle fattezze di personaggi conosciuti, noti, del passato. Ovviamente questi lavori hanno ampliato gli interessi e sono arrivati anche su altri libri. Abbiamo approfondito temi legati all'evoluzione umana, un tema molto sentito nell'antropologia che è quello delle presunte razze umane e in generale gli studi legati al viso nel passato. Tutte queste suggestioni, interessi e ricerche sono complete in due mostre di cui vi parlerò. Vi parlerò dei reperti esporti, dei linguaggi usati e di quanto è emerso nel lavoro di preparazione di queste due esposizioni. Ciao a tutti, io mi chiamo Gabriele Marino, sono un semiologo che lavora all'Università di Torino e in particolare lavoro all'interno del gruppo di ricerca FACES. Un progetto, un gruppo guidato dal professor Massimo Leone finanziato dall'Unione Europea con lo scopo di studiare il significato e il funzionamento semiotico del dispositivo volto all'interno delle culture digitali e non solo in realtà. Noi ci vediamo giorno 8 aprile alle ore 9 per il corso di Filosofia della Comunicazione e quello che vi presenterò io è una riflessione semiotica sul senso di alcuni dei fenomeni virali che vediamo quotidianamente sui social, dei cosiddetti internet meme, dei meme che parlano della pandemia e della nostra ossessione per il virus e parleremo dello stato, come dicono i semiologi, patemico cioè della passione, dello stato d'animo, della frustrazione, in particolare della frustrazione direi al quadrato che tutti stiamo vivendo da più di un anno. Il mio intervento si intitola Il dottor stramemone, ovvero come ho imparato a non toccarmi la faccia e a ridere del virus. Ciao e grazie. Ciao a tutte, ciao a tutti. Ciao a tutti, sono Bruno Surace, sono un assegnista di ricerca postdoc per il progetto ISE Facets guidato dal professor Massimo Leone, mentre io parlo il mio gatto dietro di me si lava. Sono qui soltanto per dirvi, se vi può interessare, che noi ci vediamo il 4 marzo 2021 alle ore 9 per parlare assieme di volti, il titolo del mio intervento, della mia conferenza sarà Avvolti ritornano per una etnosemiotica facciale attraverso il cinema parleremo assieme quindi di come determinati tipi di volti sono rappresentati nel cinema nello specifico parleremo appunto di volti avvolti, di volti dipinti, di volti scritti, di volti pitturati e di come queste scritture del volto nel medium cinematografico ci raccontano determinate culture e in che modo possiamo usarli per capire l'alterità. Per chi volesse vedere non soltanto il mio faccione quindi ma tante altre belle facce ci vediamo il 4 marzo, citatemi bene e un caro saluto. Il mio nome è Silvia Barbotto, faccio parte del gruppo di ricerca FACETS, con molto piacere sarò anch'io presente al seminario I cronotopi del volto e il 25 marzo vi condividerò una presentazione dal titolo Tra la memoria e l'oblio nell'arte, permanenza e cancellazione nelle culture visive del volto contemporaneo. Ciao a presto! Ciao a tutti! Mi nome è Maria Bendito e sono un studente di ricerca FACETS nella gruppo di ricerca di arte e globalizzazione interculturale del Departamento di arte e storia della Università di Barcellona. Come potete sapere, il mio discorso è intituito di metodologia e approcci per identificare e investigare le processi di trasformazione e la visualizzazione della face. Quindi, durante la sessione, intendo a parlare di come di investigare, come di sviluppare, come di sviluppare, di come di sviluppare, la trasformazione formale e semantica della rappresentazione della face. Quindi, avere un backgroundo in storia di arte e soprattutto in storia di arte, della storia di moderno alla contemporanea, la approccia sarà stata definita nella rappresentazione dell'artistica del self-portrait, che è, l'artista depilando lui stesso tra i 16th e i 19th centrii. E la ipotesi di sviluppare sarà la prossima idea, penso che, l'utilizzo del self-portrait come un problema di discussione theoretical nel 16th centrii e, in turno, la trasformazione formale e semantica verso il problema dell'introspeccione nel 19th. Perciò, durante la sessione, vorrei poter presentare come fare una ipotesi diachronica e transversale su questo aspetto e, ovviamente, cercare di solverlo. Quindi, alcune questione che cercheriamo di rispondere ciò che dovrebbero essere la nostra evidenza per formulare questa ipotesi, quali teoriche si dovrebbero vedere le rispondere le rispondere le rispondere le rispondere che supportano e illustrano queste ipotesi come si dovrebbero essere giustificate le rispondere le rispondere le rispondere le rispondere e, ovviamente, credo che parliamo di cose fascinanti che ciò che sono le rispondere 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 a la stessa di FACET soprattutto Massimo Leone Cristina Botto e Elsa Soro per inviare a questa seminare è un grande piacere ascoltare sui spazi interessanti e share le nostre idee e parlare ciò che viene in mente vi saluto in May Buongiorno a tutti mi chiamo Marco Viola sono assignista di ricerca presso il dipartimento di filosofia e scienze dell'educazione all'università degli studi di Torino dove collaboro con il progetto FACETS Face Aesthetics in Contemporary E-Technological Societies diretto dal professor Leone nel corso del mio intervento il prossimo 11 marzo avrò il piacere di raccontarvi qualche cosa a proposito delle mie ricerche su facce e maschere il titolo dell'intervento faccia e maschere tra funzioni proprie ed esattamenti prelude a una doppia storia da un lato la storia della faccia come organo biologico della comunicazione dall'altro la storia tecnologica delle maschere che cercherò di definire come l'artefatto facciale per eccellenza vedremo come al di là del motivo per cui l'evoluzione ha selezionato la faccia così com'è ovvero una determinata configurazione e disposizione di organi per lo più sensoriali e per cui sono state create le maschere in origine molte delle loro qualità sono state prese e cooptate per svolgere altre funzioni un fenomeno che in biologie si chiama exaptation e come il fatto che tanto la faccia nata come collezione di singoli organi di senso sia diventata un organo della comunicazione e la maschera nata per i più svariati motivi magari come strumento per proteggere il volto tenda poi a svolgere molte funzioni alcune delle quali non sono immediatamente percepibili pone delle sfide non solo di riflessione ma anche di costruzione delle maschere affinché si comprendano appieno le funzioni a volte nascoste che possono svolgere e che svolgono e soprattutto in questo periodo ci permetteranno di raccontare e capire qualche cosa di più su uno degli oggetti che abbiamo visto più spesso in questo anno appena passato sono cristina voto sono ricercatrice del progetto IRC FACETS docente di comunicazione visiva all'università di torino e docente di semiotica all'università nazionale del 3 di fevrero in argentina all'interno dei seminari cronotopi del volto presenterò un intervento dal titolo pelle artificiale maschere biopolitica codificazione visiva performatività culturale del volto nell'arte contemporanea nel mio intervento mi occuperò della performatività dell'intelligenza artificiale nell'ambito della produzione di immagini facciali in particolare cercherò di tracciare gli effetti che le rappresentazioni facciali hanno sulla percezione dell'alterità quando queste rappresentazioni però sono prodotte da un'agentività artificiale e quindi automatizzata il contesto di riferimento del mio intervento sarà l'iconosfera digitale contemporanea in particolare mi concentrerò sulle dinamiche che riguardano la produzione di visibilità e di conoscibilità dei corpi e dei volti sociali a questo proposito cercherò quindi di rendere conto della produzione visiva dell'alterità quando è scritta in una serie di opere di arte che utilizzano tecnologie di intelligenza artificiale per aver assistito a questo piccolo prodotto do ora la parola a Cristina grazie Elsa beh buongiorno a tutte buongiorno a tutti in realtà avevamo previsto con Elsa come dire una un'ulteriore escursione nel programma perché forse avrete notato che non tutte le persone che sono intervenute nel video sono quelle che effettivamente poi sono presenti nel programma ma mi ha scritto uno studente perché voleva fare una domanda massimo quindi mi sembra molto più importante se potete dare parola allo studente e nel caso in cui abbiate qualsiasi dubbio sul programma insomma cioè sia la locandina ma se poi volete potete anche scriverci insomma grazie la parola in atto e quindi Davide Bonomo se vuole prendere parola è il suo momento salve buongiorno grazie professoressa la ringrazio molto ehm io volevo fare una domanda al professor Leone riguardo a quello che è stato detto prima diciamo sull'abbellimento del volto il discorso che è stato fatto sulla post-produzione diciamo eh del volto eh quando il professore ha parlato mi è venuta in mente diciamo una riflessione qualcosa sulla diciamo un discorso sull'arte greca e romana la mia domanda è questa ehm si può parlare diciamo di un abbellimento del volto di una post-produzione anche a partire dalle tanti italica quindi anche a partire dall'età greca e romana perché eh se noi prendiamo in considerazione magari le statue greche piuttosto che i busti romani eh le raffigurazioni di Augusto come imperator piuttosto che come pontifex maximum parliamo tutte di raffigurazioni che tendono alla perfezione di rappresentare un concetto quasi ideale che spesso non corrisponde alla realtà ehm ehm un Augusto doveva diciamo farsi rappresentare come un imperatore eh austero forte vigoroso eh quindi c'è una funzione anche propagandistica no? dietro a questo abbellimento tra virgolette del volto che poi viene raffigurato come perfetto no? e che sicuramente probabilmente non rappresenta la realtà quindi volevo chiedere appunto se questa concezione di se stesso quasi imperfetta perché poi eh no? ci si devono modificare delle imperfezioni che sembra tipica del nostro tempo in realtà non sia un qualcosa di più antico come a me sembra perché diciamo che oggi forse hanno accesso tutti a questo tipo di post produzione grazie ai social grazie alla rete internet quindi la mia domanda è appunto questa se in realtà si può dire che questa concezione di se stesso è post produzione affonda le radici tempi più antichi grazie 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 dottor per rispondere voglio dire che ehm l'articolo sul quale poi è stata basata la conferenza di oggi sarà presente tra i vostri materiali quindi materiali del corso di comunicazione e culturali media e sarà poi accessibile anche a chiunque volesse ehm leggerlo nella mia pagina Accademia vedrò comunque i riferimenti mentre la registrazione di questa lezione insieme a tutte le altre che verranno saranno disponibili nel nostro canale youtube il canale youtube di facets nell'apposita playlist eh sì quello che dice è vero ci sono delle linee di continuità eh nel senso che l'idealizzazione del volto fa parte da tempi remotissimi eh delle modalità della sua rappresentazione già il volto rappresentato in epoca pre-istorica era un volto un po' molto molto idealizzato eh tuttavia ehm come lei accennava cambiano i soggetti di questa idealizzazione e poi soprattutto cambiano anche le tecniche e le tecnologie della idealizzazione quindi se eh nell'epoca che lei ha fatto riferimento era l'immagine del sommo potere che poteva circolare attraverso un effigile proprio volto e letteralmente eh essere fra le mani di tutti perché i molti profili i primi profili diciamo della storia visiva occidentale sono forse quelli eh raffigurati sulle monete eh anch'essi molto idealizzati divinizzati in certi casi ehm con l'epoca moderna e ancora di più con l'epoca digitale questa possibilità di rappresentarsi eh presso gli altri attraverso il volto ma anche di eh archiviare delle immagini di volti di altri è diventato pannaggio di tutti non tutti abbiamo nel nostro cellulare un numero di immagini digitali di volti che una volta è assai superiore a quello che un ehm archivio di eh servizi segreti o un archivio di eh forze dell'ordine aveva propria disposizione in epoca pre-digitale quindi abbiamo degli archivi digitali che sono comparabili a quelli stati pre-digitale diciamo così cambia anche la tecnologia nel senso che l'idealizzazione eh a mezzo eh diciamo dispositivi diciamo analogici e quindi che avessero una loro materialità densa pesante no? il digitale ha una materialità ma è una materialità molto molto meno densa molto più fluida noi possiamo continuamente trasformare post produrre le immagini dei nostri volti i nostri filtri sono in una gamma molto ampia possiamo sempre più per esempio indicchiarci ingiovanirci cambiare il nostro genere no? conoscete tutti questa app russa che si chiama FaceApp ehm mentre per eh eh ringiovanire eh il volto di un imperatore per abbellire il volto di una principessa eccetera spesso era necessario una era necessaria un'intermediazione umana l'artista che interagiva con il volto attraverso una materialità molto meno mobile no? i pigmenti di un dipinto o ancora meno mobile una scultura tanto è vero che l'unico modo per eh passare dall'idealizzazione di un imperatore romano successivo non consisteva nel modificare il volto delle statue ma nel distruggere una cosiddetta damnazio memoria che prevedeva spesso appunto di sfregiare le statue ma anche di raschiare il profilo della dei volti degli imperatori dalle monete quindi sì c'è una continuità ma questa continuità eh interagisce con una discontinuità che è dato dal numero di coloro che hanno accesso a questa diciamo così di post-produzione indializzante e alle tecnologie che la consentono che introducono dei livelli sempre più elevati di smaterializzazione e di eh presunta immediatezza o intermediazione disintermediazione scusate allora siamo alle undici eh dobbiamo chiudere vi ringrazio moltissimo eh troverete questi materiali nel sito anche per rispondere a coloro che preferiscono appunto avere un accesso scritto o comunque più meno orale diciamo alla la lezione e mh e poi utilizzeremo la prima ora di domani eventualmente per discutere ancora più approfonditamente dei temi che sono stati annunciati eh oggi naturalmente procederemo anche oltre ma ehm vi do diciamo una giornata di tempo per pensarci su e domani cominceremo magari con una breve discussione vi ringrazio molto ringrazio moltissimo le professoresse Elsa Soro e Cristina Voto così come tutti gli altri partecipanti eh studenti, studentesse, dottorani, dottorande, colleghi o amici e amiche e ci vediamo domani sempre a partire dalle otto vi ringrazio moltissimo vi ringrazio moltissimo vi ringrazio moltissimo